Funziona questo? Mi sentite? Sì, anche se mi allontano un attimo dal microfono, sì, si sente bene lo stesso, perfetto. Più che altro perché con due in mano puoi far rischio di fare confusione, sì, ma poi c'è anche questo per le slide, quindi uno è un basta e avanza. Sì, basta, basta. Allora, direi che avete capito il duro lavoro del capo economista, ha inquadrato praticamente tutto quello che può succedere nel bene e nel male nei prossimi 6-12 mesi e oggettivamente capite che è un lavoro difficile, nel senso che ci sono tanti se, tanti ma, tanti fattori macroeconomici, alcune cose prevedibili, altre molto meno. Io faccio un lavoro molto più facile, molto più semplice, che è l'analista tecnico. L'analista tecnico studia i prezzi, gli indicatori, i volumi e da lì cerca in qualche modo di capire cosa fare sul mercato. Cosa fare sul mercato soprattutto in un'ottica di breve termine. Io oggettivamente, lo dico sempre, io faccio molta fatica a dire dove saranno i mercati tra un mese, due mesi, tre mesi. Io alzo bandiera bianca, ve lo dico subito, quindi non chiedetemi dove sarà Wall Street tra un mese, non lo so proprio. Io al massimo posso capire cosa farà domani, dopodomani, tre, cinque giorni al massimo. Di più, secondo me, iniziamo a introdurre degli elementi di aleatorietà che poi in qualche modo incidono poi sull'esito finale della nostra operatività. Quindi le cose che vi farò vedere, secondo me, vanno molto bene o vanno bene per chi opera appunto con orizzonti temporali di questo genere. Opera a livello intraday, opera a livello giornaliero con l'operatività appunto che si esaurisce o comunque nasce su orizzonti temporali di breve termine e che in qualche modo adesso vedremo quali sono in qualche modo i principi che stanno dietro a questa tecnica di analisi. Parleremo in particolare di analisi tecnica. E per quanto riguarda l'analisi tecnica, noi vedremo che saranno sempre tre aspetti che analizzeremo in modo congiunto. Analizzeremo una parte di tipo grafico, ossia un'analisi che riguarda lo studio e il comportamento dei prezzi. Un'analisi di tipo quantitativo che prevede invece l'utilizzo di quelli che vengono chiamati oscillatori, indicatori, che in qualche modo non sono altro che semplici formule matematiche che in qualche modo studiano il comportamento dei prezzi. E poi c'è una parte volumetrica che in qualche modo conto di fare alla fine di questa giornata che è un po' diciamo il valore aggiunto che è nato nel corso degli ultimi 5-6 anni sui mercati finanziari che in qualche modo è conosciuta con la tecnica del market profile, volume profile. Conto di spiegarvela perché so che magari qualcuno ne ha sentito parlare, qualcuno già la conosce ma ho visto che in qualche modo molti magari non hanno ben chiaro cos'è e come si può applicare per poi operare sui mercati finanziari. Adesso parleremo di volume profile che appunto studia il comportamento dei volumi, ossia l'analisi volumetrica che ci consente di individuare quali sono i prezzi più importanti che si formano ogni giorno sui mercati finanziari e questi prezzi più importanti sono quelli fondamentalmente sui quali si è concentrata l'operatività degli investitori di tipo istituzionale. Quindi parleremo sempre e soltanto di questi tre aspetti, grafici, quindi prezzi, indicatori e volumi, con una cosa molto importante da sottolineare che noi abbiamo un obiettivo fondamentalmente da raggiungere che è quello di capire chi sta controllando il mercato finanziario che noi stiamo analizzando. Può essere un'azione, un indice, una valuta, una materia prima, non è assolutamente importante. La cosa importante è capire chi sta controllando il mercato, i compratori o i venditori. Ossia c'è su questo mercato una forza rialzista, se una pressione rialzista più forte di quella ribassista, quindi una forza dei compratori maggiore di quella dei venditori e allora sapremo in qualche modo chi sta controllando in termini positivi quell'attività finanziaria. Se sarà invece la forza dei venditori ad avere il sopravvento, capiremo che in qualche modo quell'attività finanziaria è in difficoltà, è debole e potenzialmente potrebbe appunto subire un'ulteriore discesa. Ma l'obiettivo è quantificare queste due forze, forza dei compratori contro forza dei venditori. Il presupposto fondamentale di tutte le analisi che vedremo è che tutto ruota sostanzialmente attorno ai prezzi. Sì, gli indicatori vanno bene, sì la parte volumetrica va bene, ma non dovete mai dimenticare che voi comprate un'attività finanziaria a un certo prezzo e lo rivendete a un altro prezzo. Se l'acquistate, ipotizzate che quell'attività finanziaria si rivaluti e quindi i prezzi salgano. Se la vendete, la vendete short, la vendete perché in qualche modo ipotizzate che quell'attività finanziaria scenda di prezzo e quindi poi la ricomprerete più in basso. Ma parleremo solo ed esclusivamente di prezzi. Gli indicatori e i volumi ci servono fondamentalmente per svolgere un ruolo fondamentale di conferma o di smentita delle indicazioni che arrivano dai prezzi. Quindi ci sono i prezzi che comandano e gli indicatori e i volumi che confermano o non confermano. A volte confermano e allora a quel punto avremo uno scenario chiaro e facile da analizzare lì davanti. A volte invece non confermano e in qualche modo si parlerà di divergenza tra il comportamento dei prezzi e appunto il comportamento degli oscillatori e degli indicatori. Ma ricordate sempre sono i prezzi quelli che in qualche modo vanno analizzati con maggiore precisione e con maggiore dettaglio. Vedremo fondamentalmente che il nostro processo di analisi nasce da dove? Nasce dallo studio dell'ultima barra giornaliera che si è formata sulla nostra attività finanziaria. Quindi lo studio non parte dall'analisi intraday. L'analisi intraday è la parte finale del nostro lavoro. Il nostro lavoro parte dall'analisi dell'ultima barra giornaliera. Quindi ad oggi andiamo a analizzare quello che è successo ieri sul mercato. Cioè l'ultimo comportamento che abbiamo avuto sul mercato a livello giornaliero. Quindi quello sarà il nostro punto di partenza. Da quella barra avremo già alcune informazioni di un certo tipo. Estenderemo poi questa analisi alle ultime due o tre barre. Quindi alle ultime due o tre giornate. Perché vedremo che sostanzialmente c'è all'interno dei mercati un ciclo ripetitivo di tre giorni. Qualcuno magari avrà sentito nominare il ciclo di Taylor. Che studia appunto questo comportamento ripetitivo di tre giorni sui mercati finanziari. E quindi inseriremo l'ultima barra all'interno di questo ciclo di tre giorni. E poi estenderemo la nostra analisi su un orizzonte temporale un po' più lungo. Io qui ho messo 10-15 sedute. Quindi un orizzonte temporale che non ha nulla a che vedere sull'orizzonte temporale di cui avete parlato prima con Brambilla. Brambilla parlava a fine aprile, a settembre, a giugno. Sono orizzonti temporali che a noi non interessano. Noi in qualche modo analizziamo quello che è successo nel recente passato. Per cercare di capire quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro. Quindi orizzonte temporale di breve, brevissimo termine. Ok, queste sono le due rappresentazioni tipiche che penso il 99,9% di voi già conoscono. Sia che vengano visualizzati a forma di barro o forma di candela. Si parla di bar chart o di analisi candlestick, ossia con le candele giapponesi. Entrambe queste rappresentazioni però non fanno altro che visualizzare ed in qualche modo di fornirvi gli strumenti utili per capire quello che è successo nell'ultima giornata sul mercato. Cioè ci sono questi quattro prezzi che sono i quattro prezzi più importanti che si formano sul mercato che sono il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo massimo e il prezzo minimo. Sono quattro prezzi che in qualche modo si formano però in modo molto diverso l'uno dall'altro. Iniziamo ad analizzare il primo. Il primo è il prezzo di apertura per quanto riguarda il nostro mercato, il mercato azionario italiano, il prezzo che si forma alle 9 del mattino. Questo prezzo si forma sulla base di tutta una serie di input, di indicazioni che in qualche modo arrivano agli operatori dalla chiusura del giorno precedente appunto alla riapertura del mercato. Per sintetizzare, lunedì mattina il nostro mercato aprirà al rialzo o al ribasso sulla base di tutte le informazioni che gli operatori si sono in qualche modo creati dalla chiusura di ieri sera di Wall Street a appunto la riapertura di lunedì. Ci sarà il comportamento delle borse asiatiche, ci saranno i cambi, ci sarà il comportamento delle materie prime e così via. Tutto questo flusso di notizie impatta su quell'apertura di lunedì. Sarà ad esempio un'apertura in rialzo se c'è un ambiente positivo in qualche modo con i future americani che già scontano una riapertura in territorio positivo da parte dell'America come magari le borse asiatiche che sono salite, con le materie prime che rimbalzano se tutto questo ambiente positivo si scaricherà su un prezzo di apertura in qualche modo positivo di lunedì. Se invece succede qualcosa nelle prossime ore o domani o prima dell'apertura di lunedì mattina è chiaro che invece avremo un'apertura in territorio negativo. Dovete però sapere che questo prezzo di apertura viene fatto in qualche modo sulla base appunto di questa emotività da parte dei piccoli operatori, chiamiamoli piccoli, in realtà stiamo sui piccoli intermedi. Cosa voglio dire? Che sono questa categoria di operatori che si fanno condizionare da questo flusso di notizie che gli arriva appunto prima dell'apertura e che in apertura decidono ok c'è un flusso positivo in apertura compro, c'è un flusso negativo in apertura vendo. In realtà dovete sapere che questa apertura è in qualche modo utilizzata dagli investitori che chiamiamo istituzionali, quelli che operano con regole standardizzate, ripetitive e quindi con delle regole anche di money management già precostituite che sfruttano questa in qualche modo emotività dei piccoli per operare molto spesso con un'operatività contraria a quella dei piccoli. Quindi se i piccoli comprano i grossi investitori vendono. Al contrario se i piccoli operatori vendono i grossi investitori comprano. Perché? Perché in qualche modo gli istituzionali sono già in posizione dalla chiusura precedente. Cioè nel nostro esempio dalla chiusura di ieri sera. E poi valuteremo ad esempio cosa è successo ieri pomeriggio o ieri sera sul nostro mercato. Quindi vedremo che bar ha disegnato ieri il nostro mercato. Una bar chiameremo di shooting proprio per contestualizzarla. Con tutti i volumi che sono nella parte alta del range. Chi fa il FIB? 19,750,19,8. Quindi io so cosa hanno fatto gli istituzionali venerdì e come in qualche modo opereranno sull'apertura di lunedì. So che hanno venduto il mercato a 19,750,19,8. E' lì che ci sono focalizzate tutte le vendite degli istituzionali. E hanno innescato la correzione. Fondamentalmente quindi loro sono in qualche modo sbilanciati al ribasso e so dove hanno iniziato a vendere, a liquidare le loro posizioni. Ma poi lì ci arriviamo con la parte di volume profile. Poi nella giornata, alla fine di ogni giornata, si forma un prezzo massimo. Che è il prezzo appunto più alto al quale i compratori sono riusciti a spingere il mercato. Cioè il compratore ha comprato a questo livello, a quest'altro, a quest'altro ancora. Ma arrivati a questo prezzo massimo, sopra questo livello non sono riusciti a spingere i prezzi. E le motivazioni possono essere sostanzialmente due. Arrivati a questo livello di prezzo, quindi a questo livello di massimo, i compratori non sono riusciti a spingere ulteriormente in su i prezzi. Perché? O perché la loro forza è venuta meno, quindi è venuta meno la forza dei compratori. Quindi i prezzi non hanno continuato a salire perché è venuta meno la pressione rialzista. O perché su questo livello di prezzo sono arrivati i venditori. Cioè è arrivata un'intensificazione, un rafforzamento della forza dei venditori. Quindi nel primo caso i prezzi hanno smesso di salire perché è venuta meno la forza dei compratori. Nel secondo caso c'erano ancora tanti compratori che stavano comprando e volevano in qualche modo spingere ulteriormente più in su il mercato. Ma arrivati a questo livello di resistenza, in qualche modo di ostacolo, c'è stato appunto un rafforzamento della forza dei venditori che ha bloccato la salita e ha poi eventualmente innescato una correzione. Capite che sono due cose ben diverse. Se un massimo si forma con pochi volumi e poi i prezzi scendono, è lì che capisco che sì, i prezzi hanno smesso di salire perché è venuta meno la forza dei compratori. Ma se io vedo che un massimo si forma con tanti volumi, capisco che lì i prezzi hanno smesso di salire non perché c'erano meno compratori, ma perché sono arrivati tanti venditori che su quella zona di resistenza hanno iniziato a liquidare le loro posizioni. Quindi avremo due livelli di massimo da valutare in modo diverso, a seconda che ci siano tanti volumi o pochi volumi. Questo per quanto riguarda il massimo. Poi c'è il prezzo minimo, all'opposto. Il prezzo minimo è il prezzo più basso al quale i venditori hanno in qualche modo schiacciato il mercato nel corso dell'ultima seduta. Hanno venuto il mercato qua, 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 ma arrivati su questo livello di minimo, i prezzi hanno smesso di scendere. Perché? Può essere dovuto a due elementi. Uno, perché i venditori hanno smesso di vendere, cioè è venuta meno la loro forza e quindi fisiologicamente i prezzi non ce l'hanno più fatta scendere e poi eventualmente hanno rimbalzato. O nel secondo caso, arrivati su questo livello di minimo, c'erano ancora tanti venditori che stavano vendendo, ma sono arrivati dei compratori di una certa importanza che hanno impedito al mercato di scendere sotto questa soglia e poi hanno innescato un rimbalzo. Capite che nel primo caso si è formato un minimo perché è venuta meno la forza dei venditori. Nel secondo caso si è formato un minimo che è anche un supporto di tipo volumetrico, cioè un supporto nel quale c'è stata battaglia tra compratori e venditori e nel quale i compratori mi hanno evidenziato dove per loro quell'attività finanziaria potrebbe essere interessante accumularla, acquisirla. Ci siamo? Poi abbiamo il prezzo più importante che si forma alla fine di ogni giornata. Il prezzo più importante è il prezzo di chiusura. Se il prezzo di apertura viene fatto in qualche modo dai piccoli e medi operatori, il prezzo di chiusura è condizionato inevitabilmente dall'operatività dei grossi operatori che tra le 4 e mezza e le 5 e mezza, se parliamo di mercato azionario o italiano, devono decidere cosa fare. Hanno delle posizioni in essere, devono decidere se mantenerle ancora o eventualmente iniziare a liquidarle in tutto e in parte. Dal posizionamento del prezzo di chiusura io riesco a capire che view hanno gli istituzionali. Ieri ad esempio il prezzo di chiusura si colloca nella parte bassa del range giornaliero che si è disegnato ieri. So quindi che gli istituzionali hanno venduto in alto, hanno venduto e hanno fatto scendere fino a fine giornata in chiusura il mercato e quindi mi hanno dato già in qualche modo un'indicazione di quello che in qualche modo si aspettano che il mercato faccia lunedì, martedì, nelle prossime sedute, cioè non hanno scommesso sul fatto che il nostro mercato continuasse a salire, ma anzi raggiunta quella zona che vi dicevo prima, 19,750-19,8, si sono messi a liquidare le loro posizioni e hanno poi innescato questa correzione. Da un punto di vista operativo cosa si fa? Si scompone il range giornaliero, dove per range giornaliero intendiamo la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo di giornata e questo range giornaliero viene scomposto in quattro fasce. Sostanzialmente si dice che quando il prezzo di chiusura si colloca nella parte alta del range giornaliero, quindi nella fascia più alta, nel 25% superiore, possiamo dire che la giornata è stata di tipo rialzista. Quando invece il prezzo di chiusura si colloca nella parte bassa del range giornaliero, quindi nel 25% inferiore, possiamo dire che la giornata è stata di tipo ribassista. Chiaramente abbiamo anche delle zone intermedie, a seconda che in qualche modo il prezzo di chiusura termini in prossimità del mid range, cioè del range medio di giornata, e avremo delle giornate moderatamente rialzista, moderatamente ribassista. Ma fondamentalmente noi vedremo che nelle nostre operatività saremo sempre interessati a sapere quando il mercato ha chiuso nella fascia alta o nella fascia bassa del range di oscillazione. Quello sarà il messaggio più chiaro che gli istituzionali ci possono dare. Ricordate il prezzo di chiusura lo fanno gli istituzionali, se si colloca là in sopra mi indicano che fondamentalmente hanno una view rialzista e quindi pensano che il mercato possa continuare a salire. Se invece gli istituzionali vendono e il prezzo di chiusura si colloca nella parte bassa del range giornaliero, significa che gli istituzionali in qualche modo hanno una view negativa su quell'attività finanziaria. Abbiamo introdotto adesso un concetto di range giornaliero, quindi come distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo di giornata. Dovete sapere sostanzialmente che le giornate sui mercati finanziari vengono sostanzialmente divise in due grosse categorie. Delle giornate di range, quindi delle giornate di oscillazione, in cui la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo è contenuto e queste giornate vengono chiamate range day o narrow range day e sono giornate che vedremo hanno la loro importanza, anche se a prima vista può sembrare che non ce l'abbiano. Questa prima tipologia di barre viene in qualche modo suddivisa dalle altre barre, dalle altre giornate di borsa, che sono le giornate invece in cui il mercato ha una direzione ben precisa. Sono le giornate di tipo direzionale. Queste giornate prendono il nome di trend day o in qualche modo wide range day. Sono le giornate in cui la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo si estende in maniera significativa. Analizziamo le caratteristiche di queste due tipologie di giornate, partendo dalle barre di range day, quindi giornate in cui la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo è contenuta. Queste giornate, vi dicevo a prima vista, potrebbero sembrare insignificanti. Sono giornate in cui molto spesso magari il mercato oscilla nel corso della giornata in maniera orizzontale, con volumi sostanzialmente medio-bassi e quindi possono in qualche modo non darvi grosse indicazioni operative. In realtà queste giornate di consolidamento laterale svolgono una funzione particolarmente importante che è quella di comprimere la volatilità. Comprimendo la volatilità creano le premesse per la seconda tipologia di barre che è quella in cui invece le barre allungano in maniera significativa la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo e sono giornate in cui invece la volatilità aumenta in maniera significativa. Noi vedremo che uno degli aspetti fondamentali è lo studio della volatilità e ci accorgeremo che molto spesso le barre di narrow range, quindi a bassa volatilità, precedono le barre ad ampio range, ad alta volatilità e quindi sostanzialmente io quando vedo delle barre di narrow range so che lì in qualche modo mi devo aspettare che il mercato da un momento all'altro possa fare un movimento di tipo impulsivo. Quindi cercheremo di studiare che tipo di narrow range, che tipo di compressione di volatilità ci possono essere di aiuto per costruirci sopra la nostra operatività. Termino dicendo che tipo di caratteristiche hanno le barre di trend day, quindi le barre in cui la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo si espande in maniera significativa. Queste, come ho detto, sono le giornate nella quale la volatilità aumenta in maniera significativa e sostanzialmente aumentano in maniera significativa anche i volumi di scambio, quindi avremo delle giornate in cui una delle due forze ha preso decisamente il sopravvento sull'altra, i rialzisti ad esempio hanno preso decisamente il sopravvento e hanno spinto in su con decisione il mercato. Queste giornate sono giornate in cui sostanzialmente poi molti volumi arrivano sul mercato perché per spingere su con decisione i prezzi è necessario che ci sia anche il motore, quindi dei volumi significativi. Quindi queste giornate sono ad alto ampio range, ad alti volumi e poi vedremo che tipo di chiusura dovranno avere per darci un'indicazione interessante. Lo studio dei volumi, in questa prima parte lo vedremo in modo, chiamiamolo semplicistico, da analisi tecnica di base, poi oggi pomeriggio magari invece vedremo più nel dettaglio la parte di volume profile appunto per analizzare il comportamento dei volumi a livello intraday. Dovete sapere sostanzialmente che se voi vedete un trend di tipo rialzista su una certa attività finanziaria, questo trend rialzista è caratterizzato da minimi e massimi crescenti, quindi sostanzialmente il mercato sale, corregge velocemente, sale, corregge e riparte. Questa analisi di tipo grafico va associata a un'analisi di tipo volumetrico e sostanzialmente per in qualche modo valutare la bontà, la solidità di questo trend rialzista, io cosa devo avere? Devo avere dei volumi che sono alti, elevati, quando il mercato fa gli allunghi e quindi spinge a rialzo i prezzi. Quando invece il mercato consolida lateralmente o subisce delle correzioni, i volumi che devo avere sul mercato sono dei volumi deboli, scarsi. Mi indicano sostanzialmente che questo mercato è controllato dai compratori, quindi tanti compratori quando il mercato sale, pochi venditori quando il mercato consolida o corregge. Questo è il modo con il quale i volumi, in termini oggettivi, mi quantificano che questo è un trend rialzista forte, sano, e sostanzialmente un mercato controllato dai compratori. Ricordate la domanda iniziale, devo sempre chiedermi chi controlla il mercato. Se i prezzi hanno un andamento crescente, o cioè una serie di minime e di massimi crescenti, con volumi che si comportano in questo modo, ho il segnale che appunto i volumi confermano questo trend rialzista. Volumi alti quando il mercato sale, volumi deboli quando il mercato corregge. L'opposto in un trend di tipo ribassista, devo avere volumi elevati quando il mercato scende, volumi deboli quando il mercato consolida o in qualche modo prova dei rimbalzi di tipo tecnico. Sostanzialmente, se noi vogliamo suddividere le giornate di borsa in alcune categorie precostituite, noi sostanzialmente possiamo dire che le barre a rialzo che possiamo avere, cioè le giornate positive sui mercati, sono sostanzialmente di tre tipi. Avremo una prima tipologia di giornata, di barra, che è quella che vedete qui. Una giornata in cui sì, la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo è contenuta, il prezzo di chiusura si colloca sì, nella parte alta del range giornaliero, e mi dice che in qualche modo è stata una giornata rialzista, ma vedete che sostanzialmente quando il range è contenuto, molto spesso anche i volumi di quella giornata sono modesti, moderati. E quindi posso capire che sì, ok, la giornata è stata vinta dai compratori, ma non è in qualche modo che è stata una giornata nella quale i compratori hanno fatto la voce grossa in maniera significativa. Il discorso cambia, man mano si allunga il range giornaliero. Sostanzialmente più si allunga il range giornaliero, più in qualche modo l'importanza di quella giornata aumenta. E fondamentalmente la migliore giornata rialzista che io posso avere sul mercato è l'ultima di destra che vedete in questa slide, in cui cioè la distanza tra prezzo massimo e prezzo minimo aumenta in maniera significativa, il prezzo di chiusura si colloca sempre nella parte alta del range, con dei volumi che sono significativi. Vedremo che in qualche modo volumi significativi significa volumi superiori a una certa media. Calcoleremo la media settimanale dei volumi, confronteremo l'ultimo dato dei volumi appunto con questa media per cercare di capire se i volumi appunto sono stati significativi o invece non lo sono stati. Queste sono le tre tipologie di barre al rialzo. È chiaro che il discorso è lo stesso, ribaltato chiaramente al ribasso, quindi lo vedete anche in questo esempio con barre di piccolo range con chiusura sui minimi. Sì, posso dire che è stata una barra ribassista, ma siccome il range è piccolo e i volumi sono modesti, ho l'idea che sostanzialmente tutta questa pressione ribassista sul mercato non è che si sia in qualche modo scaricata. Man mano aumenta la dimensione delle barre, inevitabilmente aumenta anche la dimensione dei volumi, con chiusura sempre nella parte bassa del range giornaliero, ho l'indicazione che in modo chiaro e inequivocabile i ribassisti hanno in qualche modo vinto la loro battaglia oggi sul mercato, hanno venduto in maniera significativa e questa significatività me la dà il volume, e quindi in qualche modo ho l'idea che gli istituzionali, che in qualche modo determinano dove si colloca questo ultimo prezzo di chiusura, in qualche modo si aspettano che il mercato possa continuare nella sua discesa. L'ultimo aspetto prima di entrare in più in una parte pratica è in questa slide. Io per adesso ho parlato di prezzo di chiusura come elemento fondamentale per valutare la forza dei compratori e la forza dei venditori. Sappiate che molti indicatori che sono presenti nelle varie piattaforme di trading non fanno altro che fare questi semplici calcoli. Alcuni ad esempio considerano il prezzo di chiusura e in qualche modo lo confrontano col prezzo massimo e col prezzo minimo che c'è stato nel corso della giornata e quantificano una pressione ribassista, quindi una forza dei venditori, come distanza tra il prezzo massimo e il prezzo di chiusura. Quella è la pressione ribassista che per loro si è sviluppata sul mercato e la confrontano con la pressione rialzista. La pressione rialzista non è altra che la distanza tra il prezzo di chiusura e il prezzo minimo. Se voi spostate ipoteticamente quella stanghettina che identifica il prezzo di chiusura, vedete che man mano il prezzo di chiusura scende, aumenta la pressione ribassista e diminuisce appunto quella rialzista. Ci siamo? Poi c'è una seconda metodologia di analisi della forza dei compratori e della forza dei venditori che non fa altro che confrontare il prezzo massimo di oggi col prezzo massimo di ieri e il prezzo minimo di oggi con il prezzo minimo di ieri. Lo vedete nella parte destra di questa slide. Arrivo, ve lo faccio vedere qua. Sostanzialmente questo confronto nasce da che cosa? Abbiamo detto prima che il prezzo massimo è il prezzo più alto al quale i compratori sono riusciti a spingere il mercato nel corso della singola giornata. Ieri in qualche modo i compratori sono riusciti a spingere il mercato fino a questo livello, oggi riescono a spingerlo fino a questo livello superiore. Questa distanza quindi tra il massimo di oggi e il massimo di ieri mi esprime in qualche modo quanta forza in più i compratori hanno avuto oggi rispetto alla forza che avevano dimostrato ieri. E quindi in qualche modo si va a calcolare questo spread, questa distanza tra massimo di oggi e massimo di ieri. Allo stesso modo si fa un calcolo di pressione ribassista, quindi di forza dei venditori, andando a confrontare di quanto più in basso oggi i venditori sono riusciti a spingere i prezzi rispetto a quando erano riusciti a farlo ieri. Ieri erano riusciti a spingere i prezzi fino a questo minimo, oggi riescono a spingerlo su questo minimo un po' più basso. Questo un po' più basso in qualche modo mi identifica la forza dei venditori. Se è poco contenuta la forza ribassista sarà modesta, se invece questo minimo è significativamente più basso rispetto al minimo precedente, è chiaro che capisco che in qualche modo la forza dei venditori è aumentata in maniera importante. Entriamo adesso nella parte un po' più tecnica, dopo queste premesse di carattere generale, che in qualche modo vi hanno focalizzato sugli elementi fondamentali che andremo ad analizzare. I prezzi, i volumi e la parte di indicatori quantitativi. Noi vedremo che l'obiettivo fondamentale di molte delle strategie che vi faccio vedere oggi è quello di individuare quello che è il timing ottimale di ingresso sul mercato, dove per timing ottimale si intende una corretta valutazione del rapporto di rischio-rendimento. Sostanzialmente cosa si fa? Si vanno a costruire delle strategie operative quando l'idea è in qualche modo di minimizzare il rischio iniziale al quale io mi espongo, quindi devo avere un rischio contenuto, e inevitabilmente rischiando poco il mio potenziale di rendimento sarà n volte il mio rischio iniziale, sarà due volte, tre volte. La cosa importante però vedremo che sarà fondamentale il controllo del rischio iniziale. Valutata una situazione interessante, dovremo in qualche modo costruirci sopra una strategia operativa che mi consente nella fase iniziale di minimizzare il rischio. Più che rendimento, guardiamo al rischio iniziale, a che rischio mi espongo se apro una posizione di questo genere, devo in qualche modo quantificarlo, devo cercare di ridurlo in maniera significativa, e quel ridurlo vedremo sarà fondamentale utilizzare la parte di volume profile, che mi identifica le zone di volume, le zone di prezzo più significative che si sono formate sul mercato. Una volta che ho identificato quella situazione, poi sì è chiaro che in qualche modo mi aspetto che poi se il mercato va nella direzione che ho sperato, cerco in qualche modo di individuare dei target, ma i target sono molto più legati al rischio iniziale che ha dei target in qualche modo automatici. Cerchiamo di ridurre il rischio iniziale, di cercare di capire quando il mercato è pronto per un movimento impulsivo, perché in qualche modo in quelle situazioni il mio rischio iniziale è contenuto e il mio rendimento potenziale è elevato, quindi quello è l'obiettivo iniziale di ogni strategia. Poi vedremo che in qualche modo cercheremo di individuare alcune situazioni, chiamiamole standard, ripetitive, che si verificano sui mercati, che in qualche modo parlano di fase di accumulazione, fase di trend, fase di breakout, e saranno anche degli aspetti che vedremo nelle prossime slide. Allora, i concetti che vedrete, non li ho inventati io, ma in qualche modo li ha dettati un trader parecchio famoso, parecchio conosciuto negli Stati Uniti, che è Larry Williams. Larry Williams è stato uno dei trader che negli anni 80-90 ha avuto maggiore successo, ha vinto diversi campionati di trading, e ha scritto alcuni volumi nella quale in qualche modo ha delineato quali sono i principi cardine che hanno ispirato la sua operatività. fondamentalmente i principi più interessanti sono quelli che vedete al punto 1 o al punto 2. Il concetto di small range, large range, e il concetto di trade, the momentum. Vediamo il primo, small range, large range. Il primo non è altro che un'applicazione del concetto che vi ho detto prima con le barre di piccolo range, che precedono barre ad ampio range. Quindi sostanzialmente lui va alla ricerca di situazioni nella quale i prezzi si sono mossi per un po' di tempo in maniera laterale. Questa lateralità ha scaricato la volatilità e questa compressione di volatilità lui sa che da un momento all'altro può generare un movimento impulsivo. Quindi lui identifica tutte le situazioni e su queste situazioni di compressione di volatilità cerca di costruirci sopra una sua strategia, volta a in qualche modo anticipare l'inizio di un movimento impulsivo. Quindi quello sarà uno dei principi che cercheremo di adottare anche noi quando vi farò vedere alcune strategie operative. Il secondo principio è invece non altro che l'applicazione del detto forse più famoso in termini di analisi tecnica che è trend is your friend. Ossia una volta identificato un trend, una volta valutato che quel trend è forte, occorre in qualche modo sempre lavorare a favore di quel trend e quindi in qualche modo bisogna utilizzare più logiche di tipo trend following che delle logiche di tipo reversa. Certo, prima o poi ci saranno dei segnali di inversione, ma in generale occorre in qualche modo privilegiare un'operatività long, quindi un'operatività rialzista nei trend di tipo positivo, mentre invece in trend di tipo ribassista occorre privilegiare un'operatività di tipo short. Questa come regola generale. Ok, quindi il principio di base che utilizzeremo nella costruzione delle nostre strategie le vedete riassunte in questa slide, in cui cioè se io riesco a capire che il mercato è in un trend di tipo rialzista che si è instaurato in questa fase, io devo aspettare una pausa, questa pausa laterale di consolidamento, che scarica momentaneamente la volatilità e che crea poi le premesse per il successivo movimento direzionale. Il momento ideale per costruire la strategia operativa, quindi, certo, l'ideale è prendere il movimento all'inizio, chiaro, questo è l'obiettivo principale, ma non avendolo anticipato, avendo però l'idea che in qualche modo il mercato è in un trend positivo che è solido e valido, cercheremo di sfruttare degli eventuali consolidamenti o eventualmente delle fisiologiche correzioni per costruire delle posizioni long che sfruttano appunto la presenza di un trend rialzista di tipo principale. Quindi fondamentalmente c'è sempre questa alternanza tra movimenti impulsivi, movimenti di consolidamento. Questi movimenti di consolidamento scaricano la volatilità e offrono l'opportunità di costruire delle strategie appunto direzionali in un periodo in cui c'è bassa volatilità ma è un periodo che appunto precede alta volatilità. Perché poi se noi riusciamo a costruire strategie operative alla fine di queste fasi di consolidamento, di correzione, lì la volatilità si scarica, poi la volatilità riaumenta quando il mercato poi fa il successivo movimento impulsivo in direzione del trend principale. Ok? Mi sono dimenticato di dire una cosa, se avete domande segnatevele, poi magari nella pausa me le fate perché poi siamo qua in tanti quindi magari se iniziamo a fare domande poi magari la cosa magari si complica, però se avete problemi segnate la domanda e poi me la fate diciamo nella pausa pranzo prima che inizi magari la sessione pomeridiana. Ok, questi principi li vedete in qualche modo riassunti in queste slide che in qualche modo evidenziano quello che è un comportamento ripetitivo da parte dei prezzi, cioè movimenti di lateralità che precedono movimenti impulsivi, movimenti di rimbalzo che precedono nuovi movimenti impulsivi, movimenti laterali di consolidamento di accumulazione che precedono movimento impulsivo a rialzo, movimento di consolidamento laterale che precede nuova accelerazione, movimento laterale che precede nuova accelerazione. Il movimento del mercato tende ad avere queste caratteristiche. È chiaro che ogni volta è diverso, nel senso a volte fa dei consolidamenti laterali, a volte fa dei rimbalzi, a volte magari fa dei consolidamenti chiamiamoli prolungati, contrastati, ma il movimento alternanza tra fase direzionale e fase di consolidamento è quello che vi ho fatto vedere nella slide diciamo di tipo didattico. E fondamentalmente noi vedremo che il mercato dopo fasi di consolidamento esce sempre con delle barre di accelerazione, delle barre che chiameremo di breakout, delle barre che in qualche modo rompono l'equilibrio che si crea all'interno delle fasi di consolidamento, quindi sostanzialmente questa fase di consolidamento laterale qua viene rotta da questa barra di accelerazione al ribasso che dichiara che i ribassisti hanno preso il controllo da parte del mercato e quindi in qualche modo se i ribassisti hanno preso il controllo mi devo aspettare che in qualche modo quell'attività finanziaria continui a scendere sia in termini di accelerazione al ribasso chiaramente che in termini di accelerazione al rialzo. L'obiettivo è costruire una tabella di questo genere, tutte le strategie che vengono in qualche modo costruite a livello automatico dagli investitori diciamo istituzionali piuttosto che dei fondi di investimento hanno in qualche modo queste tabelle che in qualche modo sintetizzano il quadro tecnico delle varie attività finanziarie. Quindi questa ad esempio è una tabella che riguarda i 40 titoli del Fuzzimi 40 ma la si può costruire per i cambi per le valute per le materie prime per qualsiasi attività finanziaria. L'obiettivo è individuare che tipo di trend dominante è presente su quell'attività finanziaria quindi se è un trend di tipo rialzista ribassista o neutrale non so se là in fondo magari riescono a leggere correttamente ripeto io diciamo l'intestazione delle varie colonne quali titoli hanno disegnato una barra di accelerazione a rialzo una barra di accelerazione a ribasso quali titoli e sono queste tre colonne di colore verde sono in compressione di volatilità quindi su quali titoli in qualche modo la volatilità si sta comprimendo e si sta in qualche modo creando le premesse per un nuovo movimento di tipo impulsivo e quali titoli hanno disegnato una serie di pattern grafici che in qualche modo cercherò di descrivere questa mattina che in qualche modo mi danno delle indicazioni utili su quello che è in qualche modo successo nel corso dell'ultima barra o delle ultime tre barre sul mercato che sto analizzando con questa diciamo prima parte della tabella ho un giudizio di tipo tecnico che riguarda appunto la struttura grafica e la struttura quantitativa delle mie attività finanziarie dovrò fare poi un'attività di ottimizzazione che si basa sull'utilizzo appunto del volume profile che sulla base delle indicazioni che ho qua dentro mi consente poi di costruire una strategia operativa ci sono poi le ultime due colonne di questa tabella una che riguarda la volatilità media giornaliera di quell'attività finanziaria quindi devo sapere che non so lavorando su A2A la volatilità media giornaliera è nell'ordine dell'1,85% quindi tra minimo e massimo mediamente A2A si muove dell'1,85% è un'informazione che devo in qualche modo sapere per poi costruirci sopra la mia strategia operativa un conto è lavorare con A2A che si muove dell'1,85% e un conto è lavorare su Banco Popolare di Milano che si muove del 4,20% ha una volatilità doppia e quindi in qualche modo la mia strategia operativa si deve adattare al fatto che il sottostante ha una volatilità di un certo tipo piuttosto che di un altro l'ultima colonna riguarda la forza relativa che è in qualche modo una misura che sintetizza quanto è forte o quanto è debole quell'attività finanziaria nei confronti dell'indice qui entreremo in un discorso assai complesso molti di voi magari hanno sentito nominare strategie di spread trading quindi di un titolo nei confronti di un altro titolo piuttosto che di un titolo nei confronti del settore di appartenenza del settore nei confronti del mercato quindi si possono costruire N strategie operative di tipo quantitativo qui viene sostanzialmente sintetizzata la forza relativa del titolo nei confronti dell'indice di appartenenza in questo caso l'indice Fuzzini 40 sappiate che questa non è una colonna aggiornata in questa slide è del 30 di gennaio dopo vi farò vedere la tabella aggiornata a ieri sera quindi vi farò la situazione aggiornata a ieri qua è un slide soltanto di esempio per farlo vedere oggi pomeriggio ok allora prima di proseguire dobbiamo in qualche modo affrontare un concetto che tornerà nn volte in questa presentazione che riguarda la volatilità un concetto fondamentale perché in qualche modo esprime sostanzialmente il livello di rischio e di pericolosità la quale noi in qualche modo ci esponiamo quando lavoriamo su una certa attività finanziaria abbiamo visto nell'esempio adesso se lavoriamo su A2A abbiamo una volatilità giornaliera dell'1,85 su banco BPM del 4 quella differenza di volatilità mi esprime in maniera sintetica il livello di pericolosità in qualche modo dell'attività finanziaria la mi espongo un rischio potenzialmente del 4 in un altro del 2 chiaramente è un rischio rendimento di là potenzialmente se riesco a guadagnare a prendere un prezzo minimo di giornata potrei anche addirittura pensare di andare a guadagnare il 4 la in qualche modo più dell'1,80 del 2% è difficile che in qualche modo riesca a ottenere quindi è una valutazione che mi serve per capire che tipo di strategia posso costruire sappiate che la volatilità è importante perché perché ha una caratteristica fondamentale che è quella di essere ciclica cioè sui mercati come avete già visto nelle slide precedenti ci sono periodi di bassa volatilità nella quale cioè appunto i prezzi oscillano lateralmente o consolidano all'interno di fasi laterali di consolidamento all'interno delle quali appunto la volatilità si scarica questi periodi di bassa volatilità sono il preludio però a periodi di alta volatilità quindi questo scarico di volatilità crea poi le premesse per un aumento di volatilità da parte del mercato che poi inevitabilmente aumenterà la sua volatilità finché si registreranno dei picchi di volatilità e quindi quando saprò che il mercato è su dei picchi di volatilità mi devo aspettare che io ormai il mercato il movimento che doveva fare sostanzialmente l'ha già fatto il movimento impulsivo è già stato effettuato da parte dei prezzi la volatilità dovrà tendere inevitabilmente a scendere e a stornare noi vedremo che faremo riferimento a un valore medio storico di volatilità cioè dovremo capire qual è la volatilità storica media nel passato dei nostri titoli se parliamo appunto di Fuzzini 40 dovremo sapere mediamente qual è la volatilità storica di questi sottostanti perché è chiaro che e facciamo un esempio molto semplice che se io lo so che FCA si muove mediamente del 3% e so che quindi quella è la volatilità storica del titolo ci saranno periodi in cui FCA si muove meno dell'1,5 quindi meno della metà della volatilità storica ci saranno dei periodi in cui FCA invece si muoverà del 5, 6, 7% per altre motivazioni devo fotografare queste due situazioni e noi vedremo sostanzialmente che le nostre compressioni di volatilità nelle nostre situazioni più interessanti nasceranno quando un titolo registra una volatilità di breve termine che è meno della metà della volatilità storica quindi della volatilità appunto di medio-lungo termine quindi nell'esempio se FCA si muove mediamente del 3% andremo a chiedere quando la volatilità recente di FCA è stata meno dell'1,5 cioè meno della metà lì avremo l'indicazione che il titolo è una situazione appunto di compressione di volatilità e in qualche modo la volatilità tenderà quanto meno a ritornare verso il suo valore medio cioè il valore del 3% ok allora adesso vi faccio vedere una slide che in qualche modo è una slide importante per cercare di delineare quella che è la struttura tecnica chiamiamolo ciclica dei vari mercati finanziari delle varie attività questa slide vi fa vedere sostanzialmente le 10 situazioni chiave nelle quali ogni attività finanziaria si deve trovare cioè la vostra attività finanziaria che voi analizzate è qua dentro in una di queste 10 situazioni sta a voi individuarla correttamente in base diciamo allo studio grafico lo studio quantitativo e lo studio volumetrico e chiaramente sulla base del posizionamento della vostra attività finanziaria costruirci sopra poi la corretta strategia operativa vi in qualche modo vi illustro i passaggi che in qualche modo portano il mercato diciamo dal punto 1 al punto 10 per cercare di capire come in qualche modo il movimento da parte dei mercati è strutturalmente ciclico poi non è sempre identico ma da un punto di vista diciamo di analisi il mercato tende sempre ad avere dei comportamenti che sono sostanzialmente ricorrenti partiamo per semplicità dal fatto che il mercato venga da una discesa di una certa importanza siccome è un movimento ciclico partiamo da qua ma poi alla fine torniamo sempre lì quindi potrei partire da un numero o qualsiasi di questa slide potrei partire dal numero 4 dal numero 5 poi tanto da lì in qualche modo ci torniamo per semplicità vi dico partiamo dal punto 1 allora nel punto 1 ipotizziamo appunto che un mercato venga da un trend di tipo ribassista cioè i prezzi vengono da una discesa a un certo punto io cosa ho? ho una sequenza se siamo in un trend di tipo ribassista ho una sequenza di minimi di massimi decrescenti i prezzi scendono e in qualche modo io cosa devo fare? man mano scendono devo andare a chiedere una conferma ai miei indicatori che questo trend ribassista sia ancora forte quindi vado a guardare i miei indicatori il parabolic l'MACD gli indicatori che utilizzate poi magari parliamo di qualche indicatore in particolare devo andare a chiedere che questo trend ribassista sia confermato da parte degli indicatori finché gli indicatori confermano questo trend ribassista questo trend ribassista per me è valido e quindi può continuare a un certo punto e qui arriviamo appunto al famoso punto numero 1 succede una cosa interessante i prezzi continuano a scendere ma i miei indicatori non confermano più questa tendenza di tipo ribassista si dice che vanno in divergenza positiva cioè ho una sequenza di minimi decrescenti da parte dei prezzi con minimi crescenti da parte dei miei oscillatori cioè una divergenza di comportamento l'oscillatore cosa mi dice? mi dice che nel corso dell'ultima ondata ribassista che c'è stata sul mercato la pressione dei venditori è diminuita o in alternativa è aumentata la forza dei compratori fatto sta che l'indicatore mi dice guarda che sul grafico a livello di grafico c'è ancora un trend negativo ma nell'ultima parte di questa discera c'è qualcosa che non conferma più questa tendenza ribassista la divergenza quindi mi fa squillare sostanzialmente un campanello di allarme mi dice che attenzione non è più il caso di andare a lavorare a favore di trend ribassista quindi non devo più andare a costruire delle posizioni di tipo short al ribasso ma non mi dice ancora che devo aprire delle posizioni long non è sufficiente la divergenza per poter dire ok adesso compro questa attività finanziaria perché so che oramai quello sarà il minimo non si fa così fondamentalmente vedremo che c'è un passaggio ulteriore da chiedere su questa attività finanziaria quindi la presenza di divergenza di tipo positivo mi allerta sul fatto che però un minimo potrebbe essere in avvicinamento informazione questo minimo in qualche modo potrebbe bloccare la discesa dei prezzi ma vi dicevo che per in qualche modo invertire questo trend ribassista è necessario un qualcosa qualcosa prende il nome di fase di accumulazione questa fase di accumulazione è una fase nella quale i compratori devono prendere il controllo del mercato qui nel corso della discesa precedente il controllo del mercato ce l'avevano i venditori adesso devo avere un qualcosa che mi dice che il mercato sta cambiando padrone sono i compratori che in qualche modo stanno acquisendo questo controllo inizia una fase di accumulazione che posso sì analizzare con alcuni indicatori che prendono appunto il nome di accumulation distribution in particolare noi utilizzeremo quelle di accumulation che in qualche modo mi identifica che i compratori stanno accumulando posizioni sul fondo all'interno di questa fase devo ricercare alcune figure alcune configurazioni che mi identificano che si stanno creando le premesse per un'inversione di tendenza parleremo appunto di configurazioni di inversione rialzista proprio perché precedono un'inversione rialzista di tendenza la cosa interessante è che questa fase laterale svolge anche un'altra funzione svolge la funzione di comprimere la volatilità noi venivamo da una discesa caratterizzata da forte volatilità e quindi con una volatilità che si trovava sui suoi massimi questo movimento laterale fa scaricare la volatilità la fa comprimere e molto spesso alla fine di questa fase di accumulazione si verifica una compressione di volatilità quella che qui vedete identificato al punto 3 questa compressione di volatilità mi dice che sostanzialmente quella fase di consolidamento ha svolto appieno la sua funzione ha scaricato la volatilità e ora ha creato le premesse per un nuovo movimento di tipo impulsivo dove sarà questo movimento di tipo impulsivo se è vero che è una fase di accumulazione se è vero che qua dentro ho delle figure di inversione questo movimento impulsivo sarà a rialzo cioè un movimento che in qualche modo inverte il trend negativo nel quale il mercato era inserito questo trend positivo nasce con una barra sostanzialmente di accelerazione ci sarà nella maggior parte dei casi una barra che dichiara conclusa quella fase di accumulazione e dà il via ad una fase di trend una fase di trend nella quale i compratori che in qualche modo hanno acquisito il controllo del mercato continuano a far la voce grossa ad avere appunto a confermare di avere il controllo di quel mercato i prezzi salgono quindi dopo questa barra di accelerazione i prezzi continuano nella sua salita e man mano continuano nella sua salita utilizzeremo appunto delle strategie di trend following cioè cercheremo di sfruttare delle brevi pause di consolidamento di assestamento per costruire lì dentro un'operatività con un basso profilo di rischio a favore del trend principale questo trend principale è di tipo rialzista e quindi in qualche modo privilegieremo sempre un'operatività long quindi di acquisto andremo avanti così finché a un certo punto arrivati in cima a questa salita i nostri indicatori andranno in divergenza è chiaro che man mano il mercato sale devo sempre fare quel lavoro di conferma dei miei indicatori che quello è un trend rialzista forte quindi andrò a chiedere che i miei indicatori confermino quella tendenza rialzista andrò avanti in qualche modo a cercare opportunità long finché a un certo punto compariranno delle divergenze di tipo negativo cioè gli indicatori che in qualche modo utilizzo mi devono dire che attento nell'ultima fase di questa salita c'è qualcosa che non va i compratori non hanno più la stessa forza la stessa intensità che avevano nella parte centrale e all'inizio di questo movimento di tipo impulsivo ci sarà una divergenza negativa e questa divergenza negativa sarà caratterizzata dalla presenza di ancora massimi crescenti da parte dei prezzi ma massimi decrescenti da parte dei miei indicatori quindi gli indicatori non confermano più quel trend quel segnale sarà il segnale di in qualche modo di uscita di liquidazione delle posizioni a rialzo che ho ma non è ancora il segnale che mi genera un'eventuale opportunità di tipo short cioè di tipo ribassista il mercato deve passare da una fase che è la reciproca di quella che abbiamo visto diciamo sui minimi del mercato che è una fase di tipo distributivo una fase di distribuzione una fase di distribuzione all'interno della quale devo capire che sono i venditori qui che prendono riprendono il controllo del mercato quindi in qualche modo avrò i miei indicatori di accumulation in questo caso distribution che mi devono allertare sul fatto che la pressione dei venditori all'interno di questa fase aumenta quindi con la forza dei venditori che aumenta in qualche modo si completano o si perfezionano delle figure di inversione ribassista quelle figure grafiche non fanno altro che dirvi sostanzialmente che i rialzisti stanno progressivamente perdendo il controllo del mercato a favore dei venditori questa fase di distribuzione arriva alla fine e arrivando alla fine scarica l'alta volatilità che si era creata alla fine di questo movimento impulsivo al rialzo questo scarico di volatilità ricrea appunto le premesse per una nuova accelerazione di tipo ribassista che parte con una barra di breakout ribassista che è la reciproca di quella che abbiamo visto al punto 4 al punto 4 è la barra di accelerazione al rialzo questa è una barra di accelerazione al ribasso questa barra instaura sul mercato un trend negativo e se c'è un mercato in trend negativo dovrò utilizzare delle strategie di trend following quelle che vedete qui al punto 10 volte appunto a sfruttare questa tendenza ribassista quindi privilegerò un'operatività di tipo short di tipo ribassista proprio perché capisco che il mercato è controllato dei venditori e ha maggiori chance di continuare a scendere piuttosto che di invertire andremo avanti così finché alla fine di questa discesa ci ritroveremo al punto 1 cioè ci ritroveremo in una situazione in cui i prezzi sono in trend ribassista e gli indicatori andranno in divergenza positiva sarà sempre questo lavoro l'obiettivo è inserire la vostra attività finanziaria o le vostre attività finanziarie all'interno di questo schema perché magari ci sono attività finanziarie che sono al punto 4 quindi all'inizio di un trend di tipo rialzista quindi le avete qua altre invece sono all'inizio di un trend ribassista altre le trovate alla fine di una discesa altre le troverete alla fine di una salita quindi a seconda di dove riuscite a collocare e in qualche modo il segreto è collocarla al punto giusto costruirete poi delle strategie operative adatte alla situazione nella quale quell'attività finanziaria si trova si? vedo delle facce stravolte no? va bene allora vi faccio vedere il concetto adesso vi farò vedere alcuni esempi operativi sulla base di queste 10 situazioni standard quindi non sto a in qualche modo a farvi ulteriore teoria questa diciamo si è conclusa adesso la parte di teoria adesso entriamo un po' più nel prato facendo vedere poi che tipo di lavoro va fatto solo per chiarirvi magari il concetto di divergenza che è quello che magari ho visto delle facce un po' così perplesse quando la stavo spiegando si parla di divergenza di tipo rialzista quando i nostri prezzi che vedete qua sopra in rosso sono in un trend di tipo negativo quindi hanno una sequenza di minimi e di massimi decrescenti cosa devo fare? devo andare a guardare i miei indicatori se confermano questa tendenza di tipo ribassista vediamo quando confermano e quando non confermano vediamo lo sviluppo da parte dei prezzi il mercato scende fa un minimo al punto 0 rimbalza e poi scende su un minimo al punto 1 che come vedete è decrescente rispetto al minimo al punto 0 cosa devo fare? devo andare a vedere il posizionamento dei miei indicatori quando il mercato scende sul minimo al punto 1 scendo vado a vedere il mio oscillatore indicatore e vado a controllare che anche il valore del mio indicatore nel momento in cui il mercato fa un minimo al punto 1 sia inferiore al valore che l'indicatore aveva quando il mercato era sul minimo al punto 0 quindi sul punto 1 ho minimi decrescenti da parte dei prezzi con minimi decrescenti da parte del mio oscillatore barra indicatore quindi al punto 1 il trend ribassista è ancora confermato non ci sono divergenze quando è che nascono le divergenze? nascono in un secondo momento quando dopo aver fatto questo minimo al punto 1 i prezzi rimbalzano e ridiscendono su un minimo 2 che come vedete è decrescente rispetto all'1 faccio lo stesso lavoro quindi vado a vedere il valore del mio indicatore e mi accorgo che su questo minimo al punto 2 il valore dell'indicatore è crescente rispetto al valore che l'indicatore aveva al punto 1 quindi sul minimo al punto 2 dei prezzi i prezzi hanno minimi decrescenti il valore dell'indicatore ha un valore crescente di solito arrivati a questo punto so che molti dicono come fa l'indicatore ad avere questo comportamento i prezzi sono scesi anche l'indicatore dovrebbe scendere in base al comportamento da parte dei prezzi lo fa perché e generalizzando perché poi ogni indicatore ha una sua formula ha un suo metodo di lavoro l'indicatore va sostanzialmente a valutare cosa? l'intensità con la quale si è verificata l'ultima discesa da parte dei prezzi facciamo un esempio molto semplice in modo che capite se nella precedente ondata ribassista quella che ha portato il mercato sul minimo al punto 1 il mercato scendeva mediamente dal 4% al giorno quindi perdeva il 4% oggi, domani dopo domani per tanti giorni di fila meno 4% esagero in modo da farvi capire il concetto l'indicatore scende parecchio di valore dice oh c'è una pressione ribassista elevata lui si indebolisce perché giustamente fotografa la presenza di una pressione ribassista consistente poi va a valutare di quanto mediamente il mercato è sceso in questa seconda ondata al ribasso e vede che lì il mercato è sceso sì ma scendeva soltanto del 2 dell'1 dello 0,50 quindi vedeva che sostanzialmente i prezzi avevano un tasso di accelerazione al ribasso che era inferiore al tasso di accelerazione al ribasso che avevano visto nel precedente impulso quindi lui si scende di valore perché i prezzi effettivamente scendono ma siccome scendono di meno in termini proprio di intensità di direzionalità rispetto alla precedente ondata ribassista è chiaro che si forma la divergenza vi ho fatto un esempio diciamo volutamente lampante perché poi bisognerebbe parlare delle varie formule di vari oscillatori di vari indicatori ma sappiate che il concetto è quello si va a valutare la pressione ribassista che c'è stato nell'ultimo movimento e lo si confronta con la pressione ribassista che c'erano stati nei movimenti precedenti in questo modo si creano le divergenze o eventualmente le convergenze se invece c'è convergenza ok allora ci sono alcuni indicatori che possono essere utilizzati per andare a prendere queste divergenze molti secondo me di voi conoscono questi oscillatori l'RSI il CCI praticamente li avete su tutte le piattaforme di trading chi più chi meno oramai li hanno inseriti tutti i vari broker nella loro operatività ce ne sono alcuni oggi poi adesso in qualche modo vi parlerò di questo Vortex che in qualche modo meglio di altri possono fare questo lavoro di caccia alle divergenze cioè di individuazione delle situazioni nelle quali l'indicatore non conferma il trend seguito dal mercato vediamo alcuni esempi diciamo standard su RSI e CCI poi vi parlo del Vortex che magari ha un indicatore un po' più evoluto e che potrebbe in qualche modo esservi di interesse in queste slide vi faccio vedere alcune divergenze su un indicatore RSI calcolato a 5 periodi quindi un RSI molto molto veloce vedete delle tipiche divergenze positive e negative in particolare nei filtri automatici che vengono lanciati alla fine di ogni giornata noi chiediamo che ci sia la presenza di una divergenza e questa divergenza nel caso di divergenza negativa si colloca quando l'oscillatore è all'interno della sua area di ipercomprato mentre invece quando c'è una divergenza di tipo positivo l'oscillatore deve essere all'interno dell'area di ipervenduto l'RSI solitamente viene indicato quando si trova sopra i 70 punti siamo in un'area di ipercomprato quando sta sotto i 30 punti è ipervenduto ok in realtà io uso delle soglie un po' diverse uso 75-25 ma il concetto fondamentalmente non cambia quindi abbiamo una situazione di divergenza ad esempio negativa quando i prezzi salgono e disegnano massimi crescenti e il mio oscillatore disegna invece dei massimi decrescenti all'interno della sua area di ipercomprato questa è una divergenza negativa che in qualche modo mi allerta che su questo picco di accelerazione da parte dei prezzi in qualche modo l'indicatore non conferma più il trend positivo presente sul mercato allo stesso modo qui vedete invece un'accelerazione al ribasso da parte dei prezzi con la presenza di divergenze positiva sull'RSI RSI sotto i 30 punti quindi sotto l'area di per venduto con la presenza di questa divergenza positiva mi allerta che nell'ultima discesa la pressione dei venditori in qualche modo è diminuita vedete altri esempi con RSI a 5-15 periodi non vado oltre questo è un altro oscillatore un oscillatore CCI che in qualche modo è più un oscillatore di trend following che è un oscillatore diciamo di tipo leading quindi molto veloce e quindi in grado anche di cogliere le tendenze principali presenti sul mercato sappiate che però ha delle zone anche in questo caso di per comprato e di per venduto teorico si dice che il CCI sia in per comprato quando sopra i 200 punti e in per venduto quando sta sotto i meno 200 punti in generale si possono utilizzare queste soglie di filtro per in qualche modo confermare la presenza di divergenze anche in questo caso abbiamo divergenze negative quando i prezzi salgono ma l'indicatore invece disegna massimi decrescenti abbiamo divergenze positive quando i prezzi scendono e invece l'indicatore sale ci sono poi degli indicatori che vengono chiamati oscillatori di pressione che vengono in qualche modo utilizzati per misurare appunto la pressione rialzista la pressione ribassista presente sul mercato qui ne vedete uno che lavora in particolare sull'euro stocks che in qualche modo seguendo un po' quello che vi diceva Massimo dovete sapere che mentre il DAX è un indice è prettamente industriale quindi è molto sensibile alla parte industriale l'euro stocks invece è più sensibile alla parte bancaria cioè è più sbilanciato sul comparto bancario quindi molto spesso i segnali che arrivano dall'euro stocks riguardano molto più appunto il settore finanziario mentre invece i segnali operativi che arrivano sul DAX riguardano molto più il settore industriale si utilizzano questi indicatori appunto di questi oscillatori di pressione anche per misurare la forza interna del mercato sottostante e ad esempio noi utilizziamo questo sull'euro stocks 50 che in qualche modo misura un po' poi la forza e la debolezza anche del comparto bancario finanziario vedete altre divergenze un aspetto che volevo sottolineare è che questo concetto di divergenza può essere ricercato sì su base giornaliera perché abbiamo detto noi fondamentalmente partiremo da un grafico giornaliero per fare le nostre valutazioni ma può essere utile anche andare a inserire quello che succede sul grafico giornaliero questa è ad esempio una divergenza sul grafico daily questa divergenza sul grafico daily si sviluppa anche all'interno di un time frame superiore in questo caso un grafico settimanale che ha al suo interno una divergenza che si sta materializzando quindi qui ho due divergenze entrambe positive su due time frame diversi uno weekly quindi settimanale e uno daily capite che insomma divergenze su time frame di così così importanti inevitabilmente posso in qualche modo utilizzare per poter poi ottimizzare la mia strategia operativa se io vedo che sul grafico settimanale si sta creando una divergenza positiva e anche sul grafico giornaliero c'è questa divergenza positiva capisco che oramai quel trend negativo nel quale il mercato è inserito non dico abbia le ore contate ma è chiaro che in qualche modo mi dice che fondamentalmente si stanno creando quanto meno le premesse per un minimo di una certa significatività adesso vediamo come ci si deve comportare quando si trovano queste divergenze e lo vedete in questa slide perché io vi ho detto la slide è un campanello di allarme non è sufficiente per farvi aprire delle nuove posizioni vi dice soltanto che quella tendenza nel quale il mercato è inserito potrebbe terminare e quindi in qualche modo se avete delle posizioni dovreste liquidarle ma per aprire delle posizioni contrarie a quella tendenza dovete aspettare che il mercato faccia un movimento di questo genere che in qualche modo vedete riassunto in questa slide allora descriviamo cosa deve succedere i nostri prezzi vengono da un trend di tipo ribassista scendono su questo minimo rimbalzano e ridiscendono su questo minimo 1 che è decrescente rispetto al minimo precedente su questo minimo 1 si forma la mia divergenza di tipo positivo cioè è il minimo che appunto mi allerta che quel trend ribassista che io vedo sul mercato ha qualcosa che non va questa divergenza positiva è significativa e quindi mi allerta appunto di un esaurimento di quel trend negativo nel quale il mercato è inserito ma adesso vediamo come in qualche modo si deve comportare poi il mercato e quindi i prezzi per poter provocare un'inversione di tendenza il mercato cosa deve fare? da questo minimo al punto 1 deve iniziare un rimbalzo che riporta il mercato su questo massimo al punto 2 e sul punto 2 ancora fondamentalmente noi ne sappiamo quanto prima è un mercato ancora sostanzialmente in trend di tipo ribassista cioè ho ancora una sequenza di minimi e massimi decrescenti sui prezzi c'è soltanto quella divergenza ribassista che mi allerta che c'è qualcosa che non va quando è che cambia la struttura del mercato? quando il mercato dal massimo al punto 2 scende e arresta la sua discesa su questo minimo al punto 3 questo minimo al punto 3 deve essere crescente rispetto al minimo sul quale si è instaurata la divergenza quel minimo al punto 3 crescente mi dice che il mercato non è più in trend ribassista non ho più la sequenza di minimi crescenti perché avere un trend ribassista vi ho detto dovreste avere una sequenza di minimi e massimi decrescenti fino al punto 1 ce l'ho ancora sul minimo al punto 3 questa sequenza di minimi decrescenti non ce l'ho più e soprattutto non ce l'ho più dopo che già in precedenza il mercato mi aveva già detto che già su quel minimo precedente c'era qualcosa che non andava cioè c'era una divergenza di tipo positivo e quindi sostanzialmente cosa ho come informazione ho l'informazione che qui sotto è iniziato un cambiamento di forza sul mercato i ribassisti stanno perdendo il controllo con questo minimo al punto 3 i ribassisti non riescono più a spingere ulteriormente in giù i prezzi perché? perché sarà intervenuta una forza dei compratori che fondamentalmente non li lascia più scendere quindi in qualche modo ho l'idea che la pressione dei rialzisti la pressione dei compratori aumenta in maniera significativa su questo minimo al punto 3 crescente ho in qualche modo il segnale che il mercato è pronto per un'inversione di tendenza questa inversione di tendenza chiaramente verrà perfezionata in un secondo momento da cosa? da quando il mercato supererà questo massimo al punto 2 superando quel massimo al punto 2 il mercato entra in un trend positivo avrò cioè due minimi crescenti il minimo 1 e il minimo 3 e due massimi crescenti il massimo 2 e il massimo che si formerà successivamente ma inevitabilmente superando questo massimo al punto 2 avrò il segnale che il mercato è entrato in un trend di tipo positivo questa seconda parte magari alcuni di voi l'hanno già fotografata come un pattern abbastanza famoso che viene chiamato 1.2.3 lo di Gioros c'è anche da inserire una parte relativa allo sviluppo volumetrico che dobbiamo in qualche modo andare ad analizzare perché? perché molto spesso ci si accorge che su questo minimo finale della discesa cioè il minimo sul quale si materializza la divergenza io molto spesso mi accorgo che è un minimo che è fatto con tanti volumi e i tanti volumi se vi ricordate quanto vi ho detto all'inizio mi indicano che arrivati su quel minimo i prezzi non è che hanno smesso di scendere perché sono venuti meno i venditori lì il mercato ha smesso di scendere perché sono arrivati tanti compratori che hanno in qualche modo arrestato la discesa da parte dei prezzi e si sono messi ad accumulare posizioni quindi il minimo 1 deve essere un minimo cioè il minimo sul quale si forma la divergenza caratterizzato da tanti volumi questi volumi in qualche modo poi devono accompagnare la risalita che porta il mercato dal minimo 1 al massimo 2 perché questo? perché quella risalita 1-2 non deve essere un rimbalzo tecnico all'interno di un trend ribassista perché? se fosse un rimbalzo tecnico in un trend ribassista dovrebbe avere dei volumi deboli vi ricordate in una delle prime slide che vi ho fatto vedere qual era il comportamento tipico dei volumi in un trend ribassista volumi alti quando il mercato scende volumi deboli quando il mercato rimbalza se io invece inizio a vedere un rimbalzo che è accompagnato da un incremento dei volumi vuol dire che anche i volumi non confermano più quel trend di tipo ribassista nel quale il mercato è inserito e quello è un ulteriore elemento che mi indica che c'è una forza dei compratori che si sta intensificando poi inizia una discesa quella dal punto 2 al punto 3 in cui i volumi diminuiscono questo sarà un ulteriore elemento che in qualche modo mi indica che oramai i venditori hanno perso il controllo del mercato non riescono più a spingere in giù ulteriormente i prezzi e quindi oramai il mercato è controllato dei compratori che iniziano a comprare fanno superare il massimo al punto 2 e instaurano su quel mercato un trend di tipo ribassista però è tutto legato da questo ciclo dall'analisi dei prezzi dall'analisi della divergenza che mi fa scattare il campanello d'allarme e dall'analisi dei volumetti che mi indice quando si forma un minimo significativo il minimo di esaurimento e quando il mercato forma poi un minimo crescente che mi dà il via ad un'inversione di tendenza voi vedete ad esempio questo è B per banca delle ultime settimane l'indicatore sopra è un indicatore CCI a 15 periodi vediamo come si sviluppano tipicamente le divergenze di tipo rialzista e ribassista partiamo da quella ribassista voi vedete che il mercato su questo picco diciamo di metà gennaio arriva in divergenza ribassista con il CCI CCI che si trova anche nell'area di per comprato sopra i 200 punti forma il massimo al punto 1 quindi il massimo sul quale si crea la divergenza poi il mercato scende fa la prima correzione prova a risalire ma disegna un massimo 3 che essendo decrescente rispetto all'1 mi dice che quel trend rialzista nel quale il mercato è inserito oramai è morto e quindi in qualche modo si stanno creando le premesse per un'inversione di tendenza il mercato scende fa questo minimo al punto 1 sul minimo al punto 1 qui ho una divergenza di tipo positivo con l'oscillatore da questo minimo il mercato inizia un rimbalzo che porta il mercato al punto 2 inizia una discesa con il mercato di disegno un minimo 3 crescente rispetto all'1 questo minimo 3 crescente rispetto all'1 mi dice che oramai il mercato non è più in trend di tipo ribassista e quindi in qualche modo qui si può in qualche modo sviluppare un trend rialzista a patto che appunto il mercato riesca a superare questo massimo al punto 2 io non ho l'orologio più o meno perfetto ok qui trovate altri esempi operativi e così via allora l'ultimo argomento prima diciamo che ci porterà a questa famosa pausa pausa pranzo sono le compressioni di volatilità allora queste compressioni di volatilità ne abbiamo già in qualche modo parlato all'inizio sono particolarmente interessanti perché comprimono la volatilità e creano le premesse per un movimento impulsivo diciamo di tipo direzionale queste compressioni sostanzialmente le possiamo suddividere in due grosse categorie le compressioni di tipo grafico e le compressioni di tipo quantitativo le compressioni di tipo grafico è importante sapere che si sviluppano già quando il mercato è in una fase di trend cosa significa significa che il mercato ha già fatto un'accelerazione a rialzo o a ribasso quindi è già in una fase di trend il mercato dopo questa accelerazione si prende una breve pausa di assestamento consolida per qualche seduta ma deve essere un consolidamento breve una, due, tre cinque sedute al massimo quindi soltanto una breve pausa prima che si sviluppi il successivo movimento di tipo direzionale in direzione del trend principale quindi se il mercato è in trend rialzista si prende questa pausa e poi strapperà ancora al rialzo quindi è una strategia volta a sfruttare il trend principale presente sul mercato un discorso diverso vale invece per le compressioni di tipo quantitativo le compressioni di tipo quantitativo invece si sviluppano alla fine delle fasi di accumulazione e di distribuzione che per loro natura non sono delle situazioni di continuazione le fasi di accumulazione e di distribuzione provocano inversione di tendenza la fase di accumulazione cosa fa? il mercato viene da una discesa il mercato accumula e poi inverte al rialzo giusto? nella fase di distribuzione il contrario il mercato sta salendo distribuisce si gira al ribasso quindi queste in qualche modo compressioni di volatilità di tipo quantitativo provocano un'inversione di tendenza quelle invece di tipo grafico sono invece delle brevi pause di continuazione di quella tendenza e quindi hanno delle caratteristiche profondamente diverse entrambe comprimono in qualche modo queste categorie comprimono la volatilità solo che le prime appunto precedono un nuovo impulso in direzione del trend le seconde cioè quelle di tipo quantitativo provocano un'inversione di quel trend vedo facce si? fate qualche domanda ok? no? cos'è che non vi delle compressioni di volatilità? volete fare 5 minuti di pausa? no? sì? no? vedo le facce abbastanza stanche vedo se non risponde ok andiamo a fare due passi a piedi qua sopra è un po' difficile ok allora parliamo delle compressioni di tipo grafico quindi vi dicevo queste sono compressioni che nascono dopo che il mercato è in una fase di trend ad esempio è in un trend rialzista si prende una, due, tre giornate di pausa ma esaurita questa breve pausa poi il mercato se è in trend rialzista deve continuare ancora a salire quindi è di continuazione quelle invece di tipo quantitativo provocano molto spesso delle inversioni di tendenza vediamo quelle di le compressioni di tipo grafico queste compressioni di tipo grafico nascono appunto dall'analisi grafica nascono dall'analisi dei prezzi non richiedono l'utilizzo di indicatori quindi indicatori per quanto riguarda le compressioni di tipo grafico non le guardiamo guardiamo esclusivamente l'analisi dei prezzi e per quanto riguarda l'analisi dei prezzi vengono solitamente individuate due situazioni standard ripetitive anche in questo caso non le ho ideate io e le ho costruite un trader americano che si chiama Lerio Connos che in qualche modo ha costruito tutta una serie di strategie operative che si basano appunto sui pattern grafici il primo prende il nome di Narrow Range 7 quindi è il primo pattern che analizzeremo il secondo prende il nome di Inside Narrow Range 4 vediamo cosa identifica la sigla NR7 Narrow Range 7 Narrow Range 7 indica il range che è stato il più piccolo delle ultime sette sedute quindi cos'è che fa in qualche modo il nostro filtro operativo va a individuare quelle attività finanziarie il cui range quindi la cui distanza tra prezzo massimo e prezzo minimo è stato il più piccolo delle sette barre precedenti quando c'è questa situazione significa che su quell'attività finanziaria c'è stata una compressione di volatilità a patto che poi chiaramente si si trovi all'interno in una fase di trend quindi le prime situazioni che andremo ad analizzare sono appunto i Narrow Range 7 la seconda situazione che andremo ad analizzare è la situazione nella quale c'è un Narrow Range 4 quindi è il range più piccolo delle ultime 4 barre in questo caso ma oltre ad avere questa caratteristica quindi il cui range deve essere particolarmente contenuto la mia barra la mia ultima giornata deve essere anche una giornata di Inside Inside significa che il massimo di oggi deve essere inferiore al massimo di ieri e il minimo di oggi deve essere superiore al minimo di ieri cioè deve avere un mercato che ha oscillato all'interno del range del giorno prima lo vediamo da un punto di vista grafico questa barra che vedete qui è una barra di Inside perché? perché il massimo di oggi è inferiore al massimo del giorno precedente il minimo di oggi è superiore al minimo del giorno precedente quando c'è questa caratteristica una condizione che abbiamo visto è rispettata è una barra di Inside in più cosa si fa? si va a misurare la distanza tra il prezzo massimo di oggi e il prezzo minimo di ieri si ha quindi una misura che quantifica il range di oscillazione di giornata e la si confronta con il range delle quattro giornate precedenti quindi questo range deve essere più piccolo sia dalla barra precedente che di quella di due giorni prima che di tre giorni prima che di quattro giorni prima se lo è quindi se il range è piccolo e più anche di Inside ho questa doppia condizione che viene rispettata e in qualche modo il mio setup si attiva fondamentalmente mi dice che guarda che c'è stata una compressione di volatilità e quindi in qualche modo puoi costruirci sopra una strategia operativa allora le barre di narrow range vengono tradate in modo molto molto semplice da un punto di vista operativo la teoria vuole che se il mercato viene da un trend di tipo rialzista e in qualche modo io identifico una barra che è questa che è di Inside eppure di narrow range la teoria vuole che sostanzialmente cosa si fa si ponga un segnale di acquisto al superamento del massimo della barra di Inside con stop loss sotto il minimo della barra di Inside in questo modo si ottiene un obiettivo abbastanza facile da capire minimizziamo il mio livello di rischio iniziale la barra è piccola è di narrow range quindi inevitabilmente il mio rischio è contenuto la distanza tra questo massimo e questo minimo è piccolo e si utilizza il concetto di dopo una compressione di volatilità il mercato poi dovrebbe fare un movimento impulsivo quindi sostanzialmente io entro minimizzando il rischio prima che il mercato riesploda in un trend di tipo direzionale quindi fondamentalmente il mio potenziale di rendimento nel caso in cui il mercato poi effettivamente strappi sarà sicuramente più elevato rispetto al rischio iniziale che mi sono preso ho rischiato poco per avere un potenziale di guadagno che è sicuramente più alto rispetto appunto al mio rischio ci siamo? è il concetto che vi ho detto nella slide iniziale cerchiamo di costruire delle strategie operative che ottimizzano il rischio ottimizzano il rischio significa ridurlo il più possibile le barre di narrow range inside fanno questo lavoro e soprattutto se si ha la bravura la fortuna di capire che nel giorno successivo effettivamente il mercato accelererà ancora in direzione del trend potrei ottenere un rendimento che è sicuramente più alto rispetto al mio rischio iniziale questa è nell'ottica diciamo di tipo long qui invece l'avete nell'ottica di tipo short cioè con un mercato che scende fa poi la barra di inside narrow range e quindi la strategia sarà l'opposta si andrà short sotto il minimo della barra di inside con stop loss iniziale sopra il massimo della barra di inside il rischio anche in questo caso è contenuto e in qualche modo si ottiene l'obiettivo di ridurre il rischio e di operare a favore di trend quindi si costruisce un'operatività short volta in qualche modo ad anticipare un'ulteriore accelerazione al ribasso alcuni software vi consentono di fare questo lavoro ad esempio voi potete chiedere al vostro software di visualizzare in forma grafica o con l'indicazione con qualche simbolo quando la vostra attività finanziaria disegna una di queste due situazioni quindi ad esempio qui vengono colorate di blu le barre di narrow range 7 le barre di colore rosso invece sono quelle che sono sia di inside che di narrow range 4 vengono chiamati expert advisor che in qualche modo vi avvisano vi allertano sul fatto che appunto queste condizioni che voi impostate siano effettivamente rispettate adesso vediamo un'altra compressione di tipo grafico che prende il nome di triangolo dinamite alcuni lo chiamano boomer chiamatelo come volete sostanzialmente sappiate che è uno di quei pattern tra virgolette che nella stragrande maggioranza dei casi effettivamente si precedono un movimento impulsivo particolarmente importante ne vediamo alcuni casi e vi farò vedere cosa è successo recentemente quindi sul nostro mercato proprio questa settimana su tre titoli che hanno disegnato questa strategia questa strategia nasce da cosa? nasce dalla presenza di un doppio inside cosa significa? significa che l'ultima barra che si è creata sul mercato deve essere di inside rispetto a quella del giorno precedente a sua volta la barra del giorno precedente deve essere di inside rispetto a quella di due giorni fa quindi ho un doppio inside è come in qualche modo se i prezzi oscillano per due giorni di fila in un range sempre più stretto quindi qui il range è ampio vedete nella prima giornata poi il range inizia a ridursi e poi nell'ultima giornata si riduce ancora se io tracciassi delle ipotetiche trend line che uniscono questi massimi decrescenti e questi minimi crescenti è come se disegnassi un piccolissimo triangolo simmetrico sostanzialmente con i prezzi che quindi prima di raggiungere l'apice di questo triangolo poi inevitabilmente strapperanno in maniera brusca in maniera direzionale anche in questo caso se il trend è di tipo rialzista questo consolidamento laterale questa piccola compressione di volatilità può precedere un'ulteriore accelerazione a rialzo al contrario scusate se il trend principale è a ribasso quindi il mercato veniva da una discesa dopo questa breve pausa il mercato è probabile che riacceleri a ribasso quindi in realtà cos'è il boomer? è un piccolissimo triangolo simmetrico si perfeziona in tre giornate in cui i prezzi per tre giornate di fila consolidano lateralmente questo equilibrio sostanzialmente non può durare e la forza principale che è in controllo del mercato in un trend rialzista i compratori in un trend ribassisti i venditori riprendono in qualche modo il controllo del mercato spingendo in su e in giù i prezzi in favore del trend principale appunto presente su quell'attività finanziaria vi faccio vedere alcuni esempi prima faccio vedere gli esempi di questa settimana che sono verificati su Enel l'intesa e l'uxotica allora il primo che vedete qui a sinistra è Enel questo è il boomer che si è sviluppato su Enel appunto nel corso di questa settimana vedete quest'ultima barra che è di inside rispetto a quella del giorno precedente e a sua volta quella del giorno precedente era di inside rispetto a quella del giorno prima il trend lo vedevate era già di tipo rialzista vedete che dopo questo boomer i prezzi accelerano ulteriormente al rialzo questo invece è un caso su intesa San Paolo intesa San Paolo aveva fatto questa accelerazione a rialzo diciamo nel corso delle ultime settimane si è presa questo boomer quindi questa barra è di inside rispetto a quella del giorno prima e questa è a sua volta di inside rispetto a quella dei due giorni precedenti vedete che dopo questo boomer c'è questa barra che prova già a accelerare e poi il mercato riaccelera e questa è aggiornata diciamo a ieri sera con intesa che è salita sopra 2,46 qui vedete un doppio boomer che si è invece sviluppato sull'uxotica sia nel corso dell'ultima settimana che della settimana precedente nel corso di quest'ultima settimana vedete che questa barra rossa di inside non so se giù in fondo magari riuscite a fotografarla vedete questa barra rossa è di inside rispetto a quella del giorno prima la seconda rossa è di inside rispetto alla prima rossa anche in questo caso vedete il mercato il titolo meglio accelera rialzo ieri è salita fino a 51,50 anche diciamo la settimana precedente il titolo aveva disegnato questo boomer dal quale era seguito appunto un veloce spunto rialzista ci sta anche la figura di doppio minimo la cosa importante è valutare la presenza di questo boomer e sapere che fondamentalmente questo pattern poi ne vedremo altri è uno di quelli che più spesso magari degli altri provoca queste rapidi accelerazioni io non so se poi l'uxotica da qua parte e arriva a 100 euro a me interessa sapere che da qua l'uxotica fa un movimento impulsivo e poi in qualche modo accelerare e poi cerchiamo di capire magari meglio in che direzione so che però qui la volatilità si è compressa si è contratta e da questa compressione di volatilità so che scaturisce un movimento di tipo impulsivo no infatti ha fatto benissimo a fare questa domanda perché perché io ogni volta che c'è un boomer lo vediamo in questo esempio che da un punto di vista didattico è forse il migliore che ho trovato in parecchio tempo vediamo cosa un titolo che viene da un trend di tipo ribassista giusto accelera fa questa accelerazione e poi disegna un boomer la prima barra la seconda e la terza la terza è di inside sulla seconda la seconda è di inside sulla terza ci siamo? è il pattern che abbiamo visto adesso è chiaro che quando non guardate quello che succede dopo nel momento in cui il mercato arriva e disegna questo minimo quindi il minimo sul quale momentaneamente la discesa si è bloccata devo sempre fare quell'analisi con i miei indicatori di convergenza o di divergenza quindi se ho convergenza e quindi gli indicatori mi confermano che quel trend è ancora valido allora aumentano le probabilità che dopo quel boomer il mercato acceleri ulteriormente al ribasso e quindi il mercato accelera il mercato esce dal boomer accelera al ribasso arriva sul minimo e disegna un nuovo boomer questa diciamo barra nera è di inside sulla questa rossa questa rossa è di inside rispetto a quella del giorno precedente su questo minimo però vado a fare la mia analisi e mi accorgo che ho delle divergenze con i miei indicatori cioè i miei indicatori non confermano più quel trend ribassista nel quale il mercato è inserito allora quel boomer devo stare attento a in qualche modo utilizzarlo in ottica di trend follow in ottica di accelerazione di quel trend potrebbe essere un boomer in questo caso di inversione di tendenza e quindi in qualche modo a questo boomer il mercato potrebbe uscire anziché a ribasso potrebbe uscire a rialzo ma l'elemento che me lo in qualche modo me lo identifica è la presenza di queste divergenze con gli oscillatori perché qua luxottica inverte a rialzo perché in questa situazione che si è creata su luxottica si è creata una specie di base di accumulazione il signore la chiamava doppio minimo è comunque una situazione nella quale quel trend ribassista dalla quale veniva il nostro titolo luxottica è chiaro che non è più confermato non ho più i minimi decrescenti che mi devono identificare che mi identificano il trend nel quale l'attività è inserita e quindi è più probabile che anziché accelerare ulteriormente a ribasso siamo in una situazione nella quale il titolo sta provando invece ad invertire quel trend proprio perché non c'è più la conferma né in questo caso dai prezzi né da parte degli indicatori posto? ok c'è poi un esempio di questo genere dove si vede molto bene questo è praticamente un sistema che gira in automatico sui 40 titoli del Fuzzini 40 dove si va continuamente alla ricerca di situazioni di questo genere quindi barre di narrow range barre di inside doppio inside e quindi di boomer si vede molto bene come dopo queste fasi diciamo di inside narrow range il mercato poi acceleri fa il nostro boomer riaccelera fa l'inside e poi riaccelera quindi molti sistemi di tipo trend following che vengono attivati sui mercati finanziari sappiate che ragionano con logiche di questo tipo vanno alla ricerca di piccole compressioni consolidamente laterali in cui si riesce a definire un livello di entrata e un livello di stop loss iniziale non molto distante e quindi il profilo di rischio è basso si cerca di identificare il trend principale se il trend è ribassista come in questo caso si cercano appunto di costruire delle strategie short se invece il trend è rialzista si cercano di costruire strategie tipo long al rialzo ma il principio è sempre quello utilizzare delle situazioni nelle quali il mio rischio iniziale è contenuto e il narrow range mi consente di fare questo lavoro per cercare di lavorare a favore di trend e a favore di un profitto che è n volte il mio rischio iniziale ok adesso finiamo la presentazione per quanto riguarda le compressioni di volatilità introducendo due invece indicatori quantitativi che misurano appunto le compressioni di volatilità di tipo quantitativo quindi sono quegli indicatori che devo guardare quando siamo in presenza di fasi di accumulazione o fasi di distribuzione il primo i primi vengono chiamati ratio di volatilità questi ratio di volatilità fanno questo lavoro molto semplice vanno a confrontare una volatilità di breve brevissimo termine quindi solitamente la volatilità degli ultimi 5 o degli ultimi 10 giorni e la confrontano con una volatilità di tipo storico la volatilità degli ultimi 100 giorni questo questo confronto nasce perché perché vi ricordate lo sviluppo ciclico della volatilità in cui la bassa volatilità precede alta volatilità e così via era mi sembra la slide numero 31 ossia questo movimento nella quale ci sono periodi in cui i prezzi hanno bassa volatilità e periodi di alta volatilità ma poi c'è un valore medio che mi interessa in maniera particolare che è appunto la volatilità storica di quell'attività finanziaria e vi dicevo io sono interessato a sapere qual è la volatilità storica della mia attività finanziaria ho fatto l'esempio FCA di quanto si muove mediamente FCA mediamente storicamente del 3% se io riesco a sapere che invece nel breve quindi nel corso dell'ultima settimana o delle ultime due settimane la volatilità che ho registrato su FCA è meno della metà rispetto alla volatilità storica quindi è meno dell'uno e mezzo appunto perché avrebbero ipotizzato che FCA sia del 3% so che nel breve termine su FCA c'è una compressione di volatilità una compressione di volatilità che può sfociare in un movimento impulsivo appunto di tipo direzionale e con questa finalità vengono costruiti adesso arrivo alla slide questi indicatori diciamo questi ratio di volatilità lo vedete qua sotto questa linea blu che sale che scende in maniera abbastanza ciclica c'è una linea particolarmente interessante che è la linea che identifica lo 0,50 di questo indicatore questo indicatore non è altro che il rapporto tra appunto la volatilità di breve ad esempio la volatilità degli ultimi 5 giorni fratto la volatilità degli ultimi 100 giorni e cosa succede? Quando questo indicatore sale significa che la volatilità di breve è stata più alta rispetto alla volatilità storica quando scende vuol dire che la volatilità di breve si sta comprimendo io sono interessato a sapere quando questo indicatore è sotto 0,50 perché quando questo indicatore va sotto 0,50 mi dice che la volatilità di breve termine è stata meno della metà della volatilità storica e quindi mi devo aspettare che inevitabilmente la volatilità tenda a riaumentare quindi sostanzialmente quando nei nostri filtri operativi evidenziamo che c'è questa volatilità di breve che è inferiore allo 0,50 significa che su quell'attività finanziaria mi devo aspettare che da un momento all'altro parta un movimento di tipo impulsivo di tipo direzionale lo vedete qua qui parte un movimento diciamo direzionale al ribasso dopo che l'oscillatore è sceso sotto 0,50 qui vedete che c'è una fase laterale di consolidamento che non può che scaricare la volatilità l'indicatore infatti scende si porta sotto lo 0,5 e adesso mi identifica che adesso il mercato è pronto per un nuovo movimento di tipo impulsivo cioè può partire un nuovo movimento di tipo direzionale mi lancia sostanzialmente dei campanelli di allarme su quando la volatilità di breve è significativamente più bassa rispetto alla volatilità storica per sintetizzare diciamo al massimo il concetto siccome è alla fine delle fasi di accumulazione di distribuzione molto spesso quindi nella maggior parte dei casi è più di inversione che di continuazione quindi qua è più probabile che il titolo scenda piuttosto che salta ok per quanto riguarda le compressioni di volatilità molti di voi conoscono ad esempio le bande di Bollinger le bande di Bollinger sono quelle due bande che in qualche modo comprimono l'andamento da parte dei prezzi e che sono visualizzate solitamente da una linea continua centrale e da appunto dalle due bande che sono evidenziate molto spesso dalle linee tratteggiate che sono appunto la banda superiore e la banda inferiore di Bollinger sapete che fondamentalmente le bande di Bollinger hanno dietro un concetto statistico legato alla deviazione standard sono le 12 e mezza mi state già ascoltando da un'ora e mezza direi non vi sto a spiegare la deviazione standard se no è la volta che dal 27esimo piano ci potrebbero essere dei tentativi suicidio dici allora lasciamolo lasciamolo perdere sappiate che da un punto di vista statistico il concetto che sta dietro è che nel 95 rotti per cento dei casi i prezzi tendono a rimanere all'interno di queste bande di oscillazione ok e quindi sostanzialmente con queste bande poi sono state costruite tante strategie c'è la famosa camminata sulle bande piuttosto che ci sono quelli che lavorano invece sulla fuoriuscita delle bande cioè considerano che quando i prezzi escono dalle bande siano degli eccessi e quindi in qualche modo poi i prezzi tenderanno a rientrare all'interno di queste bande sono tutte strategie che si possono utilizzare assolutamente per quanto riguarda Bollinger noi però qui stiamo parlando di Bollinger legata alle compressioni di volatilità e quindi per utilizzare Bollinger con le compressioni di volatilità possiamo utilizzare un sottoindicatore che nasce dal comportamento delle bande di Bollinger questo sottoindicatore prende il nome di Bollinger Band Band Width dove Band Width significa ampiezza delle bande questo indicatore cosa fa sostanzialmente? non fa altro che andare a misurare la distanza tra la banda superiore e la banda inferiore di Bollinger nelle fasi di trend questa distanza sarà elevata proprio perché la volatilità nelle fasi di trend è alta quando invece il mercato lateralizza con solida lateralmente quindi la volatilità si riduce le due bande tendono ad avvicinarsi e questo indicatore mi dice guarda che adesso le due bande si stanno comprimendo cioè si stanno avvicinando l'una all'altra e siamo in una situazione nella quale quando queste due bande si avvicinano molto spesso poi parte un movimento impulsivo lo vediamo qua allora nella parte sopra vedete un grafico al quale sono applicate le bande di Bollinger nella parte sotto vedete l'indicatore Bollinger Band Band Width quello che misura appunto l'ampiezza delle bande e vedete che durante le fasi di trend in questo caso di trend di tipo ribassista la distanza tra le due bande è elevata cioè il livello della banda superiore è molto distante dal livello della banda inferiore e quindi il valore dell'indicatore non può che essere elevato proprio perché misura la distanza tra le due bande man mano poi il mercato scende ma la volatilità si riduce vedete come la banda superiore progressivamente scende e la banda inferiore progressivamente sale finché in qualche modo le due bande si avvicinano e si comprimono attorno ai prezzi questa compressione mi viene fotografata dall'indicatore appunto bandwidth che molto spesso quando scende sotto 0.05 anche in questo caso è una soglia diciamo da utilizzare per i filtri operativi mi allerta che le due bande sono molto vicine tra di loro quindi la banda superiore è molto vicina a quella inferiore e in qualche modo si stanno comprimendo attorno ai prezzi questa compressione di volatilità molto spesso si verifica alla fine delle fasi di accumulazione e di distribuzione quindi se qui il mercato arrivava da un trend di tipo ribassista e qui c'è stata una fase di accumulazione questa compressione di volatilità mi precede un'inversione rialzista da parte del trend e in qualche modo vedete che i prezzi effettivamente poi strappano a rialzo strappano a rialzo le due bande si allontanano l'una dall'altra e il valore dell'indicatore scusate non può che aumentare il valore dell'indicatore aumenta aumenta finché i prezzi iniziano una nuova fase laterale che in qualche modo potrebbe essere di distribuzione le due bande in qualche modo si riavvicinano la banda superiore scende e la banda inferiore si avvicina e il valore dell'indicatore torna ancora una volta sotto il nostro valore 0.05 no segue la volatilità presente sul mercato quindi sostanzialmente quando la volatilità si comprime l'indicatore scende quando la volatilità aumenta l'indicatore sale noi siamo alla ricerca di quando è sceso diciamo tanto in maniera significativa ad esempio molti utilizzano dei filtri di questo genere quando questo indicatore si trova sui minimi dell'ultimo mese significa che il mercato viene da un mese di consolidamento laterale quindi da una fase prolungata che molto spesso poi sfocia nel movimento impulsivo però non guarda i volumi guarda esclusivamente allo sviluppo al comportamento della volatilità ok allora adesso quanto ho? siamo in anticipo allora lascio la parte di volume profile per l'introduzione di questo di questo primo pomeriggio in cui poi ci legheremo anche con quegli amici di BMP per l'analisi dei loro prodotti quindi farò magari ancora 10 minuti un quarto d'ora di introduzione mi la lasciate fare sì sì grazie faccio questa introduzione ancora di un quarto d'ora volume profile market profile ma adesso prima di andare in pausa pranzo vi faccio vedere alcune strategie operative che sono di inversione che nascono da dei pattern che sono appunto di reversal ce ne sono diversi sono diciamo una ce ne sono una sequenza non li analizzeremo tutti vi farò però vedere come in qualche modo vanno analizzate le situazioni che provocano delle versioni di tendenza sia da un punto di vista grafico sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista volumetrico ne analizzeremo una in particolare che prende il nome di key reversal bar la key reversal bar può essere sostanzialmente di due tipi key reversal high bar key reversal low bar la key reversal high bar si verifica alla fine di un trend rialzista e quindi è una bar che identifica che sul mercato si è formato un massimo significativo la key reversal low bar si verifica invece alla fine di un trend ribassista identifica che sul mercato effettivamente si è verificato un minimo significativo adesso cerchiamo di capire perché questo minimo è particolarmente importante e perché è così significativo vediamolo qua prima per quanto riguarda la key reversal high bar allora la key reversal high bar deve avere queste caratteristiche primo il mercato deve venire da un trend di tipo rialzista quindi inevitabilmente io devo avere un mercato che viene da una salita e questo non ci piove quindi è un mercato che sta salendo a un certo punto c'è una barra una giornata che ha queste caratteristiche la prima caratteristica è che il mercato apra in gap up quindi l'apertura di oggi deve essere in gap up significa che l'apertura di oggi deve essere sopra il massimo del giorno precedente attenzione a non confondere i gap con il app ok il gap è apertura di oggi sopra il massimo di ieri ci siamo si ok questa caratteristica mi dice che in apertura il mercato ha provato ancora a salire se vi ricordate però chi è che fa molto spesso il prezzo di apertura quando vi ho descritto le caratteristiche dei 4 prezzi più importanti della giornata i piccoli medi operatori che hanno visto un trend rialzista magari c'è un ambiente positivo che ha accompagnato appunto l'apertura di questa mattina e tutti in qualche modo i piccoli scommettono che il mercato dopo questa apertura continuerà a salire in realtà i grossi operatori molto spesso fanno il contrario di quello che fanno i piccoli operatori quindi i grossi operatori che hanno già acquistato il titolo nel corso del precedente movimento a rialzo utilizzano questa apertura in gap up quindi questo nuovo allungo da parte dei prezzi per iniziare a distribuire a vendere a liquidare le loro posizioni quindi in qualche modo sfruttano questa apertura di ulteriore rialzo per uscire dal mercato e il mercato cosa fa dopo questa apertura si fa un leggero massimo comunque un massimo ancora un po' più in alto ma poi a livello intraday inizia una discesa una discesa che si intensifica sia in termini di prezzo che in termini volumetrici quindi la cosa che dovrò andare a controllare a fine giornata è che effettivamente i volumi che hanno accompagnato questa giornata siano dei volumi significativi questa discesa si intensifica e a fine giornata io mi trovo un mercato che è sceso ed ha un prezzo di chiusura che non soltanto è inferiore alla chiusura del giorno precedente ma deve essere una chiusura che è inferiore al minimo del giorno prima perché è importante questa seconda caratteristica perché il minimo del giorno prima avevo detto è il punto più basso al quale i rivenditori sono riusciti a spingere il mercato giusto? oggi ho una giornata nella quale addirittura i prezzi a livello di chiusura che viene fatta dagli istituzionali gli istituzionali vendono e spingono i prezzi su un livello più basso rispetto al quale erano riusciti a spingere i venditori del mercato il giorno precedente queste caratteristiche messe insieme mi dicono che il trend si stava procedendo su quel massimo gli istituzionali non hanno più comprato anzi hanno venduto hanno innescato una correzione una correzione importante e quella importante quella importanza mi deriva dall'analisi dei volumi molto spesso queste barre hanno volumi particolarmente elevati sia perché ci sono stati volumi comunque significativi in apertura sia perché la pressione ribassista che si è instaurata nel corso della giornata deve essere importante quindi significativa quindi volumi in vendita massicci con un prezzo di chiusura che deve essere inferiore al minimo del giorno prima chi usa le candele giapponesi molto spesso questa situazione la fotografa come una bierishengulfing se volete chiamarla così perché le caratteristiche sostanzialmente più o meno possono essere quelle però la cosa importante sono queste che ho detto apertura in gap massimo di oggi inevitabilmente superiore al massimo di ieri con chiusura inferiore al minimo e con volumi elevati questa caratteristica farà sì che il giorno successivo la mia strategia operativa principale cosa sarà ho letto queste informazioni ho letto che il mercato ha provato a salire ma su in alto i venditori hanno preso il controllo da parte del mercato e quindi là sopra in qualche modo sono appostati i miei venditori quelli di tipo istituzionale la mia strategia per domani sarà quella di sfruttare un eventuale rimbalzo tecnico verso queste zone di volume che si sono create a livello intraday per aprire posizioni short quindi posizioni che seguono il comportamento da parte degli istituzionali perché difficilmente il mercato il giorno successivo avrà la forza di superare questo picco di sopra ho capito che il mercato non ce l'ha più fatto ad andare hanno comprato i piccoli gli istituzionali hanno venduto quindi gioco forza di sopra il mercato non andrà e non andando sopra questo massimo si creerà quello che in gergo tecnico viene chiamato un massimo di swing un massimo che è preceduto e seguito da dei massimi più bassi che sono sostanzialmente dei punti di esaurimento da parte dei trend questo massimo di swing quindi massimo preceduto e seguito da massimi più bassi al suo interno a una barra appunto la key reversa high bar che mi identifica che la pressione dei ribassisti è aumentata e aumentata in maniera importante e quindi gioco forza il mercato nelle giornate successive subirà una correzione subirà una correzione o sarà inversione lo scoprirò strada facendo io vi dicevo non posso prevedere da qua a tre settimane cosa fanno i mercati posso prevedere cosa faranno a uno due tre cinque giorni quello lo posso fare sulla base di quello che è successo nel recente passato per cercare di capire cosa può succedere nel prossimo futuro se volete indicazioni di più telefonate a Massimo Brambilla io da un punto di vista operativo posso leggere quello che fa il mercato su questo orizzonte temporale allora questa è la key reversal high bar quindi alla fine di un trend di tipo rialzista questa è la key reversal low bar una barra che si verifica alla fine di un trend di tipo ribassista le stesse caratteristiche ma ribaltate quindi il mercato deve venire da un trend di tipo ribassista il mercato a un certo punto apre in gap down i piccoli operatori hanno paura pensano che il mercato continuerà a scendere perché magari c'è un ambiente negativo in apertura in realtà i piccoli operatori vendono i grossi operatori che erano andati a ribasso nel corso del precedente movimento a ribasso utilizzano quest'ulteriore discesa per chiudere le loro posizioni short e eventualmente aprirne di long quindi in qualche modo la pressione ribassista dei piccoli viene riequilibrata dalla forza degli istituzionali che comprano iniziano a comprare rispingono sul mercato e a livello di prezzo di chiusura io devo avere una chiusura che si colloca sopra il massimo del giorno precedente questa è quella che in candele giapponesi molto spesso è una bullish engulfing quindi un pattern di inversione di questo genere questa giornata molto spesso è in qualche modo caratterizzata dalla presenza di alti volumi alti volumi che mi devono identificare che questa risalita da parte del mercato non è una risalita qualsiasi è una risalita nella quale la pressione rialzista è aumentata in modo significativo in modo corposo quindi in qualche modo da domani la mia strategia operativa sarà quella di cercare di in qualche modo costruire un'operatività long quindi di acquisto scommettendo comunque ipotizzando che sotto questo minimo il mercato non ci vada perché capite che lì ho il segnale che c'erano venditori di poco conto che hanno venduto le ultime posizioni ma da lì gli istituzionali hanno iniziato ad accumulare posizioni e lì che gli istituzionali hanno giudicato che sia conveniente uscire dalle loro posizioni short ed entrare invece al rialzo e quindi hanno giudicato che quello sia un livello sulla quale valga la pena di entrare ok vi faccio vedere queste ultime quattro slide poi magari andiamo a mangiare e io a bere per in qualche modo farvi vedere sostanzialmente quali sono le quattro possibilità che voi avete per in qualche modo fotografare che sul mercato c'è stata un'inversione di tendenza vedremo che c'è una prima situazione che viene chiamata 1-2-3-0 c'è la possibilità che ci sia un doppio minimo c'è anche la possibilità che ci sia una trappola quelle che in gergo tecnico vengono chiamate beer e bull trap e poi c'è quella che è la situazione che molti di voi conoscono come testa e spalle ma che magari dopo aver visto questa slide non chiameranno più così vediamo allora l'1-2-3-0 è quello che in qualche modo è stato identificato da Joe Ross ossia una situazione nella quale i prezzi scendono fanno questo minimo al punto 1 e noi abbiamo visto che su questo minimo al punto 1 si creano le divergenze devono avere deve esserci tanto volume quindi deve avere un bel po' di caratteristiche da questo minimo al punto 1 inizia un rimbalzo 1-2 e l'elemento fondamentale è che la correzione 2-3 scende ma porta il mercato sul minimo 3 che è crescente rispetto al minimo 1 quindi la caratteristica importante è questa c'è un primo minimo crescente che interrompe in qualche modo la sequenza di minimi decrescenti che stava accompagnando la discesa del mercato questa è la prima possibilità la prima possibilità appunto che mi allerta che il mercato non ce la fa più a scendere il primo minimo crescente come vi dicevo meglio se preceduto alla presenza di divergenze positive eventualmente anche da un comportamento volumetrico che abbiamo già descritto in precedenza la seconda possibilità è che il mercato cosa fa nella correzione 2-3 quindi nella correzione successiva al primo rimbalzo ridiscenda e si riporti sostanzialmente in corrispondenza del minimo che aveva raggiunto in precedenza quindi in questo caso abbiamo un minimo 3 che è sostanzialmente coincidente col minimo fatto in precedenza molto spesso uno degli elementi che ci fa propendere che questo sia effettivamente un doppio minimo è che su questo minimo al punto 1 si sviluppano scusate tanti volumi quindi devono esserci tanti volumi e volumi elevati sul minimo al punto 1 e pochi volumi o comunque volumi scarsi sul minimo al punto 3 quello identifico una situazione nella quale al test con quel diciamo livello di supporto i ribassisti non sono così forti così consistenti quindi è probabile che quel livello di supporto in qualche modo tenga ma perché in realtà il livello di supporto si è creato in precedenza quando si era creato appunto il minimo al punto 1 la terza possibilità è quella che so che molto spesso fa arrabbiare i piccoli operatori è quella che viene chiamata una bear trap una trappola nella quale cioè il mercato è sceso ha fatto questo minimo al punto 1 è rimbalzato poi ha continuato a scendere ed è andato sotto il minimo al punto 1 in precedenza lì molto spesso scattano gli stop loss dei piccoli operatori altri addirittura entrano short proprio perché pensano che il mercato continui a scendere in realtà questa accelerazione quindi quella che porta il mercato su questo minimo al punto 3 è appunto una trappola una falsa accelerazione al ribasso da cosa me ne accorgo me ne accorgo da tanti elementi ci sono due situazioni standard abbastanza riconosciute una prende il nome di Hickeke e l'altra prende il nome di 2B buy 2B sell di Victor Sperandeo non le vediamo oggi non è il caso ma sappiate che ci sono delle situazioni nelle quali queste accelerazioni vengono riconosciute come false sostanzialmente perché perché l'accelerazione che il mercato subisce quando viene rotto il minimo precedente non porta il mercato troppo al ribasso e lo fa con troppo pochi volumi ci sono questi due elementi che identificano che lì sotto sono scattati soltanto dalle chiusure di posizioni long ma gli istituzionali lì sotto non hanno venduto quel mercato cioè non sono convinti che il mercato continui a scendere e siccome gli istituzionali non vendono i piccoli operatori hanno chiuso i long qualcuno piccolo operatori apre short ma il mercato quindi non ha più la forza di scendere inevitabilmente poi si creano queste risalite rapide e repentine che mi identificano che la rottura di questo minimo precedente il minimo al punto 1 è stata una trappola cioè il fatto che un livello di supporto viene ceduto ma immediatamente poi viene recuperato quello è il segnale più chiaro e netto che potete avere per verificare che quella accelerazione è stata una trappola cioè non ha attirato nuova pressione ribassista sul mercato chiudo facendovi vedere il nostro testa e spalle come l'avete visto magari da analisi tecnica di base il nostro testa e spalle fondamentalmente noi lo possiamo scomporre in due grosse fasce una prima fascia di sinistra che io qua ho chiamato beer trap cioè la fase nella quale i ribassisti perdono il controllo del mercato questa è la fase nella quale il mercato si viene da una discesa ma a un certo punto su questo minimo che poi è il minimo centrale del nostro testa e spalle i ribassisti perdono il controllo quindi è la fase nella quale c'è il passaggio di testimone tra venditori e compratori lì sotto i venditori smettono di vendere o comunque la loro forza viene meno e aumenta progressivamente la forza dei compratori la forza dei compratori poi si materializza nella seconda parte della figura che è quella che in qualche modo viene chiamato 1-2-3-law che abbiamo già visto in precedenza con il mercato che rimbalza e poi quando scende scende ma disegna un minimo crescente rispetto al minimo centrale della testa una volta che avete letto quello che è successo in precedenza cioè che qua sotto ci sono delle divergenze che quel minimo è stato fatto con tanti volumi che avete dei setup di un certo tipo che non ho il tempo di descrivervi ma comunque sapete che un minimo importante lì sotto è stato fatto quello che succede dopo è la naturale conseguenza quindi sì potete tirare la neckline quindi una trendline che identifica la spalla sinistra la testa centrale e la spalla destra per avere un ulteriore elemento di conferma ma quello che succede dopo già che i prezzi superano la neckline o che superano il massimo al punto 2 dell'1-2-3-law è la naturale conseguenza di quello che è successo prima e quindi il fatto che i venditori qua sotto hanno perso il controllo del mercato e soprattutto nella prima risalita 1-2 i compratori hanno preso il controllo di questo mercato quindi sostanzialmente non sarà più interessante se il mercato rompa la neckline o rompa il massimo al punto 2 l'operatività nostra dal punto di vista concreto nascerà un po' prima perché una volta che poi il mercato romperà queste resistenze poi la volatilità tenderà ad aumentare ci sarà il breakout l'accelerazione poi sarà difficile magari rincorrerlo l'ideale sarebbe costruire una strategia operativa durante la correzione diciamo 2-3 quando la volatilità sostanzialmente è ancora tutto sommato moderata o contenuta e entrare sul mercato prima che la volatilità riacceleri col breakout e con l'accelerazione che ne nasce prego ma se è successo tutto quello che abbiamo descritto in precedenza cioè ci siamo accorti che alle spalle abbiamo un minimo significativo in termini di volume di divergenza e alla presenza di alcune figure di inversione particolarmente significative ve ne dico una magari che conoscete un emmer un emmer associato alla divergenza e tanti volumi so che alle spalle c'è questo minimo che è un punto di controllo importante poi vado a guardare la risalita 1-2 quindi i volumi che accompagnano questo primo rimbalzo se quella risalita è accompagnata da tanti volumi vuol dire che quello non è più un rimbalzo tecnico ma è un rimbalzo nel quale invece c'è un inizio di accumulazione e quindi ho già due elementi che mi identificano che sta cambiando qualcosa se poi la discesa 2-3 è fatta con pochi volumi mi accorgo che venditori sostanzialmente sul mercato non ce n'è più o comunque sono venditori di poco conto inevitabilmente poi il breakout la neckline è conseguenza cioè vuol dire che comunque in quel momento il mercato ha già un suo chi lo controlla fondamentalmente che sono i compratori poi è chiaro che verificare effettivamente se il mercato come accelererà con che volumi lo farà con che bar lo farà ma sostanzialmente la lettura del mercato viene fatta prima che il mercato completi la figura se avete altre domande perché vedo che si affacciano quindi magari c'è qualcuno che ha anche fame pronti allora ok riprendiamo la presentazione di questa mattina post pranzo quindi cerchiamo di rimanere il più possibile svegli speriamo che i caffè facciano effetto e mi dicono che devo dare due comunicazioni ufficiali allora la prima è per ricevere le slide che ho fatto vedere nella giornata di oggi è sufficiente mandare una mail al mio indirizzo di posta elettronica che è quello che vedete qui gdefendi chiocciola class.it c-l-a-s-s punto it quindi non vi manderò le slide vi manderò un link dal quale scaricarle siccome è un file con molte immagini ed è pesante poi magari so già che alcune caselle di posta elettronica me le respingono io invece vi do un link di Dropbox andateli sopra ve lo scaricate e il problema è risolto comunque dovete solo mandarmi la mail adesso invece per quanto riguarda quest'ora di ulteriore presentazione termino un po' la parte diciamo teorica e poi ci inseriamo un attimo con gli amici di BMP per farvi vedere sostanzialmente come dalla costruzione di strategie operative che nascono appunto dagli strumenti che vi ho fatto vedere questa mattina e che termino adesso di farvi vedere si può passare poi a una parte operativa con gli strumenti che offrono loro che in particolare sono proprio mirati a chi opera su orizzonti temporali di breve termine quindi non gli scenari brambigliani diciamo gli scenari di Defendi ok quindi strumenti che nascono appunto per finalità di trading ok allora ci mancano due argomenti uno lo farò proprio brevissimamente due o tre minuti l'altro magari un po' più corposo una 10-15 minuti che però mi serve poi per appunto passare agli strumenti di BMP l'argomento che ci mancava è un indicatore a mio modo di vedere assai interessante che è stato sviluppato nel corso diciamo dell'ultimo anno anno e mezzo che prende il nome di Vortex il Vortex sostanzialmente cosa fa utilizza uno dei concetti che avevamo visto in una delle prime slide di questa mattina ossia va a guardare diciamo sostanzialmente di quanto più in alto i compratori oggi sono riusciti a spingere i prezzi rispetto al massimo di ieri quindi non calcola solo la differenza tra il massimo di oggi e il massimo di ieri e tra il minimo di oggi e il minimo di ieri ma fa un lavoro un po' più interessante e sofisticato che vedete in qualche modo riassunto in questa slide sostanzialmente lui cosa fa va a calcolare la pressione rialzista come calcola la distanza tra il massimo di oggi e il minimo di ieri quindi in qualche modo quanta strada rialzisti sono riusciti a far fare ai prezzi considerando questo range quindi distanza tra massimo di oggi e minimo di ieri e considera la pressione ribassista invece come differenza tra il minimo di oggi e il massimo di ieri da questo differenziale quindi calcolato in questo modo vengono in qualche modo plottate sui grafici due linee la linea blu e la linea rossa i colori poi chiaramente sono personalizzabili senza nessun tipo di problema la linea blu è la pressione rialzista la linea rossa è la pressione ribassista e questo indicatore calcolato in questo modo disegna molto spesso delle interessanti divergenze in particolare vedete molto spesso come ci siano delle divergenze positive lo vedete in questo esempio con i prezzi che scendono in maniera significativa invece l'indicatore di pressione rialzista quindi quello di linea blu cresce ha dei minimi di tipo crescente mentre invece l'indicatore di pressione ribassista diminuisce fotografando appunto che nel corso dell'ultima ondata al ribasso che c'è stata sul mercato quella che vedete qua appunto la forza dei compratori è aumentata e la forza dei venditori è venuta meno e quindi in qualche modo è stata disegnata una divergenza di tipo positivo alcuni operatori lavorano non con due linee ma con un'unica linea di vortex il vortex viene appunto visualizzato da una linea continua che non è altro che il differenziale delle due linee che avete visto in precedenza quindi si fa il valore della linea blu meno il valore della linea rossa le stesse divergenze che avete visto di là su due linee le vedete plottate anche qua questa linea verde è soltanto un differenziale quindi non può far altro che fotografare appunto lo sviluppo che le due linee rosse e blu in qualche modo hanno disegnato sappiate che c'è questa possibilità di visualizzazione adesso invece vi volevo in qualche modo spiegare come gli operatori diciamo trader operatori utilizzano il market profile volume profile per in qualche modo costruire le loro strategie di tipo operativo lo fanno prendendo dei concetti che nascono dal market profile il market profile è nato negli anni 80 in America c'è un signore che si chiama Peter Steidelmar che è presidente del Cibot all'epoca la borsa più importante a livello di materie prime mondiali che in qualche modo ha sviluppato una metodologia di analisi dei volumi che era basata sul tempo quindi il presupposto del market profile era che più a lungo i prezzi rimangono su certi livelli di prezzo più quei prezzi saranno importanti saranno significativi e quindi andava a vedere nell'intraday faceva questo tipo di analisi analisi tipo temporale basata appunto sul trascorrere del tempo fotografava ogni 30 minuti dove i prezzi erano rimasti nel corso della giornata e poi vediamo come costruire questo grafico dal market profile si è passati al volume profile nel senso che l'evoluzione dei software dei server ha consentito in qualche modo di registrare ogni singola transazione che avvenne sui mercati finanziari e nel 2017 in realtà già da un po' di anni è possibile costruire anche per i privati dei grafici di volume profile che non lavorano su fattore temporale ma lavorano proprio su fattore volumetrico il presupposto infatti il presupposto teorico del volume profile è che i prezzi più significativi che si formano nel corso di una giornata sono i prezzi sui quali si registrano i maggiori volumi di scambio vediamo le differenze vi faccio vedere dei grafici market profile volume profile due esempi grafici e poi vediamo applicato ad esempio a quello che è successo ieri sul nostro Fuzzimib e poi vediamo che tipo di strategia operativa ci si può costruire sopra allora questa è la costruzione del market profile quindi che lavora su base temporale vediamo cosa succede allora si ragiona su arco temporale di 30 minuti quindi il mercato apre alle 9 mercato italiano si va a vedere dove il mercato oscilla tra le 9 e le 9 e mezza ipotizziamo che il mercato tra le 9 e le 9 e mezza oscilla tra 18.88 e 18.91 il market profile cosa fa attribuisce a questi 4 prezzi della prima mezz'ora la lettera A quindi mettere la lettera A di 18.88 18.89 90.91 e si ferma alla prima mezz'ora passiamo alla seconda mezz'ora ai valori della seconda mezz'ora il market profile attribuisce la lettera B quindi ipotizziamo che il mercato abbia oscillato tra un minimo di 18.90 e un massimo di 18.93 lui attribuisce la lettera B a questi 4 prezzi battuti nel corso della seconda mezz'ora se noi visualizzassimo alla fine della prima ora di contrattazione qual è il comportamento del mercato con il market profile avremmo che il 18.88 e il 18.39 è stato battuto soltanto nella prima mezz'ora il 90 e il 91 nella prima e nella seconda il 92 e il 93 soltanto nella seconda mezz'ora di contrattazione si passa alla terza mezz'ora visualizzata dalla lettera C ipotizziamo anche in questo caso che il mercato oscille tra 18.91 e 18.94 lui mette la lettera C a questi 4 prezzi quindi lo mette 18.91 a 92 93 94 e voi già vi accorgete che il 18.88 il 18.89 l'ha fatto nella prima mezz'ora poi non l'ha più fatto il 18.90 l'ha fatto nella prima nella seconda il 91 nella prima nella seconda nella terza mezz'ora e iniziamo a avere un certo tipo di informazione si va avanti così nella quarta nella quinta mezz'ora e così via finché a un certo punto arriviamo alla fine di una giornata diciamo di contrattazione in cui abbiamo questa rappresentazione in cui il mercato ha fatto un minimo a 18.88 e un massimo a 18.98 il market profile però mi dice guarda che la zona nella quale il mercato però è rimasto per il maggior numero per il maggior tempo è quella tra 18.90 e 18.94 come fa a dirmelo me lo dice con un'area che viene chiamata value area che è l'area all'interno della quale il mercato è rimasto per il 70% del tempo è un concetto statistico che è molto simile alle bande di Bollinger e la Gaussiana lasciatelo lì per adesso fotografatevi sul fatto che ok value area 70% del tempo è rimasto lì quindi è l'area nella quale comunque il mercato è rimasto per più tempo e quindi è l'area più significativa l'area del valore poi ci sarà un livello di prezzo il 18.91 che viene chiamato POC point of control che è il livello di prezzo sul quale in assoluto il mercato è rimasto per più tempo perché è stato battuto sia nella prima che nella seconda che nella terza nella quarta e così via la vedete che è quello che ha il maggior numero di lettere sostanzialmente ok a noi il POC si interessa è sicuramente importante ma la cosa importante è la value area cioè l'area nella quale il mercato è rimasto per il 70% del tempo questo è il concetto che sta dietro al market profile sappiate che per i mercati liquidi ha costantemente liquidi quindi DAX Eurostox Bund Eurodollaro ok non ci sono assolutamente problemi il market profile va assolutamente bene perché la liquidità sostanzialmente è costante nel corso della giornata per il nostro mercato mercato azionale italiano c'è questo piccolo problema che dalle 11.30 all'1.30 molto spesso il nostro mercato scusate è una linea orizzontale non si muove non c'è assolutamente ci sono scambi perché crolla la liquidità tutti gli operatori sono a mangiare quindi non c'è non ci sono sostanzialmente scambi e i prezzi nel quale il mercato rimane tra le 11.30 e l'1.30 il market profile dice oh guarda il mercato è rimasto per due ore lì e quindi lui attribuisce del valore della significatività quando invece noi sappiamo che invece purtroppo in quelle due ore lì è proprio carenza di scambi che genera quella diciamo quella linea piatta che si vede sul mercato quindi sul nostro mercato va in qualche modo integrato integrato con cosa va integrato con il volume profile e qui vediamo le due differenze fondamentali perché il market profile lavora in ambito temporale abbiamo visto più un mercato rimane su certi livelli di prezzo più quei prezzi sono importanti il volume profile invece lavora in termini di volumi e quindi avremo che il POC per quanto riguarda il volume profile sarà il livello di prezzo sul quale in assoluto abbiamo avuto il maggior numero di scambi nella singola giornata ma soprattutto la value area nel volume profile è la zona nella quale ci sono stati il 70% dei volumi totali di giornata significa che se su quell'attività finanziaria abbiamo avuto un milione di pezzi scambiati vuol dire che 700.000 pezzi li hanno fatti dentro la value area quindi il 70% dei volumi sono lì sono dentro la nostra value area nel volume profile ok quindi per il nostro mercato bisogna incrociare un attimo queste due situazioni market profile e volume profile adesso vediamo per arrivare alla situazione del nostro Fuzzimil come viene solitamente rappresentato un grafico market profile volume profile lasciate perdere le altre frecce che vedete in questo grafico concentratevi soltanto sulle cose di colore rosso in particolare la freccia rossa e questa diciamo linea verticale di colore rosso perché quella linea rossa identifica la value area quindi l'area del valore dove il mercato è rimasto per il 70% o ha scambiato il 70% dei volumi con il volume profile e poi abbiamo questa freccetta rossa che identifica il nostro POC il point of control il livello di prezzo sul quale è rimasto per più tempo o sul quale abbiamo avuto il maggior numero di volumi scambiati nella singola giornata quindi concentratevi su quella zona lì allora perché è importante il volume profile market profile è importante per tante cose ma in qualche modo l'obiettivo a mio modo fondamentale che viene in qualche modo utilizzato dalla maggior parte dei trader è quello di focalizzare comunque l'attenzione su in qualche modo su quei livelli di prezzo sul quale si è concentrata l'attenzione degli investitori istituzionali perché ipotizziamo che alla fine di questa giornata io abbia un segnale rialzista sul mercato ok abbiamo un segnale rialzista e se io non avessi il volume profile cosa potrei fare ma entro domani al superamento di quel massimo e metto lo stop loss sotto questo minimo ho la mia barra giornaliera che mi dice che quello sopra è stato il massimo quello è stato il minimo e capite che quindi il mio rischio iniziale è dato da questa lettera B fino alla lettera V in alto giusto il massimo e il minimo di giornata ma io vi chiedo è giusto mettere secondo voi il nostro stop loss sotto questo livello di prezzo quando io vedo che è stato un livello di prezzo sul quale il mercato è rimasto praticamente per pochissimo tempo e magari sul quale non ci sono stati scambi no il mio vero livello diciamo di supporto e dove in qualche modo posso mettere il mio stop loss non è questo questo livello di minimo da parte dei prezzi ma sarà sotto in qualche modo la value area perché è questa la zona nella quale in qualche modo gli operatori hanno scambiato le loro attività finanziarie l'hanno scambiato in maniera significativa questo non è un prezzo che il mercato ha giudicato significativo da questo minimo il mercato è stato in qualche modo respinto ok quindi in qualche modo il mio stop loss non sarà più qua ma sarà qua poi metto un livello di entrata long sopra il massimo di giornata ha senso considerare quello il vero un livello significativo no in realtà la zona significativa termina probabilmente poco sopra dove c'è quella freccettina di colore verde quindi sostanzialmente io cosa faccio anziché entrare là sopra e mettere uno stop loss lì sotto quindi con un rischio tanto così rimetto un livello di entrata un po' più basso e uno stop loss significativamente più alto quindi in qualche modo riduco il rischio iniziale al quale mi espongo ma lo riduco sulla base di questa valutazione che è la valutazione che mi dà il mercato cioè dove il mercato ha concentrato la sua attenzione la sua operatività o è rimasto per tanto tempo ha fatto tanti volumi in ogni caso sono quelli i prezzi sui quali sono state aperte tante posizioni long e sono state aperte tante posizioni short cioè dove c'è stata la vera battaglia tra compratori e venditori si? ok allora adesso vi faccio vedere sostanzialmente una cosa le due distribuzioni più interessanti che si possono verificare alla fine di una giornata sono quelle che vengono chiamate distribuzione AP quindi con la value area nella parte alta del range giornaliero o le distribuzioni AB con la value area nella parte bassa del range giornaliero solitamente si dice che quando la distribuzione a forma di P abbiamo la distribuzione nella quale i venditori sono intervenuti là in alto e hanno bloccato la salita da parte dei prezzi quando la distribuzione a forma di B invece è lì sotto che sono intervenuti i compratori e hanno in qualche modo accumulato posizione al rialzo questo è interessante perché? perché è chiaro che se poi io vado a valutare cosa succederà domani sul mercato il mio obiettivo fondamentale è fotografare sostanzialmente dove si è collocata la value area dell'ultima giornata e delle ultime giornate e lo capite subito da questo esempio noi sappiamo che qua dentro ci sono stati il 70% dei volumi totali di giornata nella mia value area domani il mercato apre qua sotto sotto la value area chi si trova in difficoltà dall'apertura lì sotto? tutti quelli che il giorno prima avevano comprato quel mercato perché pensavano che il mercato salisse giusto? lì dentro c'è il 70% dei volumi vuol dire che ci saranno tanti acquisti che sono rimasti in essere perché? perché pensavano che il mercato il giorno dopo salisse se il mercato li apre qua sotto sono rialzisti che si trovano dalla parte sbagliata del mercato quindi la prima cosa che ipoteticamente faranno cosa sarà? sarà quella di aspettare un eventuale rimbalzo verso i loro valori di carico quindi verso la zona di value area che in qualche modo a contatto con questa zona ci sarà un rafforzamento della pressione ribassista cioè un aumento delle vendite dettate da chi? dai compratori che si accorgono dalla parte sbagliata del mercato quindi sfruttano un rimbalzo per chiudere le loro posizioni in tutto in pari o con una perdita il più contenuta possibile quindi io so che a contatto con quella zona troveranno resistenza la value area diventerà resistenza in caso di apertura sotto la value area se invece il mercato apre sopra la value area chi si troverà dalla parte sbagliata del mercato? quelli che ieri hanno venduto e magari hanno venduto short perché pensavano che il mercato oggi scendeva scendesse quindi cosa faranno? aspetteranno un ritracciamento verso la value area e cercheranno di chiudere nel miglior modo possibile le loro posizioni short che si sono accorti di avere sbagliato quindi in qualche modo a contatto con quella value area ci saranno acquisti dettati dalla chiusura di posizioni short di chi si trova dalla parte sbagliata del mercato quindi la cosa fondamentale è fotografare la value area e cercare di capire dove aprirà il mercato lunedì per capire se è sopra o sotto la value area dell'ultima giornata delle ultime giornate facciamo un esempio operativo che vi consente di capire poi come viene utilizzata la value area allora questa è una barra di inversione che magari molti di voi conoscono un emmer ieri sul mercato sul nostro mercato lo vediamo dopo col fuzzimi c'è stato il reciproco c'è stata una shooting star quindi una barra di inversione ribassista ma stiamo sull'emmer allora l'emmer si sviluppa come il mercato viene da un trend ribassista il mercato apre accelera il ribasso fa un minimo significativo da questo minimo il mercato riparte e chiude sostanzialmente sui valori di apertura quindi il mercato recupera in maniera importante dov'è che mi accorgo che sono entrati i compratori devo andare a guardare dove si colloca la value area perché se la value area si colloca in prossimità dei minimi di giornata io so dove il mercato ha trovato un supporto di tipo volumetrico il mercato stava scendendo perché ha smesso di scendere perché sono arrivati i compratori c'erano ancora tanti venditori che stavano picchiando vendevano perché ha smesso di scendere perché hanno trovato pane per i loro denti sono arrivati i compratori magari qualcuno qualche venditore avrà iniziato a ricoprirsi a chiudere le posizioni short ma sono arrivati anche tanti compratori che hanno aperto nuove posizioni long questo rafforzamento della pressione rialzista ha arrestato la discesa e ha provocato una risalita da parte del mercato giusto? aia digestione lenta spero ok domani quindi io so che avrò questa zona di supporto fondamentale alle spalle so che lì si è creato un minimo significativo la mia strategia sarà long perché questa è un pattern di inversione rialzista cioè un pattern che mi dice che il mercato ha finalmente trovato un minimo di esaurimento la mia strategia operativa sarà si colloca sulla base dove si trova la mia value area se si trova qua sotto cercherò di entrare il più possibile poco sopra la value area con stop loss sotto la value area quindi utilizzerò la value area come zona per costruire la mia strategia operativa ma se per caso ad esempio nell'ultima giornata tutti i volumi li avessi avuti qua sopra cosa può succedere? può succedere che siccome questa zona è la zona chiave se il mercato apre qua sopra va bene nel senso che ho una zona di supporto che anziché essere qua si colloca qua quindi la mia strategia sarà cercare di comprare eventualmente la chiusura del gap prima che il mercato riparta ma se dopo l'emmer per qualche motivo il mercato mi riapre qua sotto e ho tutti i volumi qua quello sì è un pattern di inversione rialzista ma so che se proverà a salire ci sarà la mia value area che farà da resistenza e potrebbe bloccare una risalita da parte dei prezzi è sempre un pattern di inversione a rialzo ma la discriminante è dove si colloca la value area quindi dove si colloca dove c'è stata la vera battaglia tra compratori e venditori nel corso di quella giornata se è fondamentalmente a B nella parte bassa va tutto bene se è a P qualche problematica magari la può generare ok contestualizziamo ok allora quello che è successo ieri sul nostro mercato Fuzzinibe è il contrario di questa figura il nostro mercato veniva da un trend di tipo rialzista ora purtroppo non ho più la mia presentazione ma ve la visualizzo in qualche modo il nostro mercato veniva da una salita ok aveva fatto diciamo 19.3 come zona di supporto la 19.3 è partito è partito e siamo arrivati ieri 19.8 19.8.15 ha fatto il fib di Massimo a un certo punto nel pomeriggio c'è stato un movimento laterale tra 19.5 19.7.50 in cui c'è stata grossissima distribuzione di volumi cioè ci sono i volumi nella giornata di venerdì non sono stati nella parte bassa del rain sono tutti là in cima a contatto con la resistenza diciamo 19.8 per sintetizzare tra 19.7.50 e 19.8 c'è una distribuzione a forma di P questa distribuzione ha avuto il fib con una chiusura del mercato qua perché abbiamo avuto una shooting star cioè il mercato aperto qua è salito là sopra sono intervenuti i venditori hanno bloccato la salita da parte del mercato poi c'è stata la discesa e il mercato ha chiuso qua ok cosa succederà lunedì succederà che tutti quelli che hanno comprato il mercato ieri che hanno chiuso subito la loro posizione sono appesi su sulla cioè hanno delle posizioni che sono già in perdita quindi la loro strategia sarà se per caso il mercato mi rimbalza qua ho visto che quella resistenza 19.8 è un po' ostica io esco o comunque liquido ulteriormente le mie posizioni quindi il mercato potrebbe tentare di rimbalzare ma quella zona appunto tra 19.7.50 19.8 farà da resistenza e potrebbe innescare un'ulteriore discesa sì ok adesso vediamo come questa strategia operativa può tradursi in un'operatività con gli strumenti offerti da BMP quindi la strategia è questa qua diciamo ok mercato so che lì sopra c'è una resistenza cerco di aprire una posizione short in leva mini future turbo i vari strumenti vediamo come in qualche modo poterne in qualche modo sfruttare da un punto di vista operativo prego grazie a tutti grazie a tutti